Il primo intervento si intitola Un salvadanaio per la biodiversità, la banca del germoplasma vegetale della Valle d'Aosta. È un intervento di Fabio Guglielmo, istruttore tecnico della regione autonoma Valle d'Aosta, struttura organizzativa, biodiversità e aree naturali protette, museo regionale di scienze naturali e fisio-nussan. L'ambito tematico è quello della biologia, della conservazione, della biodiversità. Prego. Buonasera a tutti. La banca del germoplasma vegetale della Valle d'Aosta è un progetto permanente del Museo regionale di scienze naturali e fisio-nussan ed è finalizzato alla creazione e al mantenimento di una struttura che si è adibita alla conservazione di semi, di specie vegetali prevalentemente spontanee, della nostra regione. Quando si parla di banca del germoplasma, ai più verrà sicuramente in mente una delle immagini che ho qui riportato, in particolare la Svalbard Global Seed Vault, che è una banca incazzonata nel permafrost di un'isola dell'arcipelaco artico delle Svalbard, all'interno della quale sono conservati semi afferenti a più di un milione di varietà agroalimentari provenienti da tutto il mondo. O ancora la Millennium Seed Bank Project, gestita dai Kew Gardens di Londra, che è la banca del germoplasma di specie vegetali spontanee più grande al mondo. Oltre a queste due illustri banche, sono presenti da TFAO anche circa 1700 banche in tutto il mondo. E queste banche hanno un obiettivo molto importante, che è quello di preservare la biodiversità vegetale. La biodiversità vegetale è infatti un patrimonio inestimabile per l'uomo, sia in termini di biorisorse che di servizi ecosistemici, ma anche per il valore estetico-culturale che hanno indubbiamente le piante. Le banche del germoplasma quindi sono essenziali, sia per il mantenimento di risorse genetiche, e questo è molto importante per varietà agroalimentari e anche per eventuali programmi di miglioramento genetico. Le banche del germoplasma rappresentano anche lo strumento di eccellenza di conservazione ex situ di specie vegetali, quindi al di fuori del proprio habitat naturale. Questo strumento è molto importante da affiancare anche a strumenti di conservazione in situ, soprattutto per quelle specie che sono a rischio di estinzione a breve o lungo termine. E per queste specie è molto importante anche attuare eventualmente dei programmi di reintroduzione, di ripopolamento, di rafforzamento delle popolazioni. E la banca del germoplasma rappresenta proprio la base per questo tipo di progetti. E infine i semi custoditi all'interno delle banche sono spesso oggetto di scambio e vengono spesso duplicati tra le banche stesse, questo per permettere un'ulteriore garanzia di conservazione di questi semi. Il tema della conservazione della biodiversità vegetale è molto sentito, soprattutto in questo periodo, proprio perché in quest'ultimo secolo stiamo assistendo a una grave perdita di biodiversità. Grave perdita di biodiversità causata principalmente dall'attività dell'uomo, che ha portato a tutti questi fenomeni riportati qui in rosso, che rappresentano minacce, che hanno portato a un aumento considerevole del tasso di estinzione naturale di qualsiasi specie biologica. In risposta a questa situazione, quindi, sono già alla fine del secolo scorso, sono state tracciate delle linee guida internazionali scaturite dalla Convenzione sulla diversità biologica e da questa Convenzione è stato definito anche un documento programmatico, The Global Strategy for Plant Conservation, che fissa precisi obiettivi da raggiungere entro determinati anni. In particolare, preciso sottolineare il target 8, che è quello che si auspica entro il 2020, la conservazione ex-situ di almeno il 75% delle specie minacciate nella regione di origine. Altri target sono quelle di promozione di programmi di educazione legati alla conservazione della biodiversità e promozione di studi per le specie vegetali spontanee. In Valle d'Aosta la tutela della biodiversità è garantita dai differenti strumenti e in particolare il 30% della superficie della Valle d'Aosta è ad oggi coperta da aree protette e vi è anche una legge regionale specifica per la tutela della flora spontanea. Ciò nonostante, delle 241 specie riportate in lista rossa, circa un centinaio sono classificate come minacciate. Questo è principalmente dovuto al fatto che molte di queste specie hanno una distribuzione localizzata e le popolazioni hanno spesso un numero molto esiguo e ridotto di individui. Si è quindi deciso nel 2014 di effettuare le prime prove di conservazione ex-situ di specie vegetali spontanee della Valle d'Aosta all'interno di un progetto finanziato con fondi FESDFSE e nel 2016 è stata ufficialmente aperta la banca regionale plasmo vegetale della Valle d'Aosta all'interno della sede operativa del Museo regionale di scienze naturali alla Salle. Questa banca ad oggi fa parte della RIBES, una rete italiana della quale fanno parte anche numerose banche storiche molto importanti a livello italiano come quella di Trent e di Pavia. Gli obiettivi di questa banca, di questo progetto, sono molteplici e seguono un po' i target del Global Strategy for Plant Conservation. Quindi ci siamo posti come obiettivo a quello di cercare di conservare ex-situ almeno 70 specie vegetali minacciate in Valle d'Aosta. Stiamo cercando di fare studi su queste specie vegetali, su alcune di queste specie vegetali, in particolare sfruttando tecnologie del DNA che sono disponibili all'interno del Museo di Scienze Naturali ed infine stiamo cercando di fare anche progetti didattico educativi a questo riguardo. Mi focalizzerò principalmente sul primo obiettivo, conservazione ex-situ. Le attività di conservazione ex-situ prevedono differenti fasi. Si ha una prima fase di selezione delle specie, campionamento dei semi, pulizia a conta, di idratazione preventiva di questi semi per impacchettarli e conservarli a meno 20. È infine importante fare prove di germinazione per valutare la germinabilità, la vitalità di questi semi ed infine tutti questi dati devono essere gestiti in appositi database. Più in dettaglio la selezione delle specie è stata effettuata con i botanici del Comitato Scientifico del Museo Regionale di Scienze Naturali e questa selezione si è basata principalmente su criteri di rarità e vulnerabilità a livello regionale, quindi basandosi sulla lista rossa della Valle d'Aosta precedentemente citata. Abbiamo comunque preso in considerazione anche specie presenti allegati di direttive internazionali per la salvaguardia della flora, abbiamo considerato anche le specie minacciate a livello italiano ed infine abbiamo dato particolare importanza a quelle specie esclusive endemiche delle Alpi nord-occidentali. In totale abbiamo quindi selezionato 175 specie candidate alla conservazione. Ad oggi siamo a 63 specie, quindi ci stiamo avvicinando l'obiettivo, mancano ancora i dati dell'ultimo campionamento e di queste 63 specie 6 sono endemiche delle Alpi nord-occidentali, qui ne riporto alcuni esempi. 8 sono quelle riportate in allegati di direttive internazionali, ad esempio l'orchidea Scarpetta di Venere, Cipipedium calceulus. 3 sono quelle riportate come in pericolo critico nella lista rossa della valle d'Aosta, la sottolinea ad esempio la salvia etiopide che è una specie di cui individui si contano veramente sulle dita di una mano in valle d'Aosta e infine 7 sono quelle riportate nella lista rossa italiana. Per quanto riguarda i campionamenti, i campionamenti e tutte le fasi della lavorazione della banca del germoplasma sono stati effettuati seguendo linee guida protocolli europei e i campionamenti in particolare sono stati fatti in collaborazione con il centro di conservazione botanico forestale del Parco Nazionale del Gran Paradiso. I campionamenti quindi avevano come finalità quella di prelevare delle accessioni di semi, quindi dei lotti di semi afferenti a una determinata specie, prelevati in un determinato luogo e in una determinata data. Quindi questi sono i tre fattori che caratterizzano un'accessione. Idealmente l'accessione dovrebbe essere di 5.000 semi, fermo restando che non è possibile prelevare più del 20% dei semi disponibili nella stazione di prelievo. Per ogni accessione è stato compilato un passaporto con tutti i dati di prelievo e di campionamento. Alcuni dati attualmente nella banca sono presenti 115 accessioni. Da questo grafico si può vincere che i campionamenti sono stati fatti in 5 anni e in ogni anno abbiamo prelevato almeno 20 accessioni, quindi un prelievo abbastanza costante. 860.000 sono i semi attualmente presenti in banca. Da questo grafico a torta si può vincere una piccola criticità. Solo il 31%, quella fetta verde, delle accessioni ha almeno 5.000 semi. Gli altri invece hanno meno semi. Questo è principalmente dovuto alla criticità di cui ho parlato prima, cioè che molte di queste specie hanno popolazioni di dimensioni molto esigue e quindi dobbiamo ovviamente prelevare meno semi perché sennò rischiamo noi di essere la causa di estinzione di queste specie. E quindi per ovviare questo problema stiamo cercando, stiamo programmando campionamenti multipli a danni alterni nella stessa specie e nella stessa località. Fase successiva, pulizia conta. Questa fase è essenziale per riuscire ad ottenere accessioni di elevata qualità, quindi prive di contaminazioni. Uno strumento che si utilizza molto per questa fase è lo stereomicroscopio. Quindi abbiamo la fase di deidratazione dei semi. Questa fase è forse la più importante della banca del germoplasma perché i semi si è visto sperimentalmente che per essere conservati a lungo, quindi per far sì che mantengano una germinabilità elevata, devono avere un contenuto idrico compreso dal 3-6%. Per raggiungere questo contenuto vengono quindi messi in incubatori in cui si può controllare l'umidità relativa alla temperatura e si va poi a misurare l'umidità relativa dei semi con un apposito igrometro. Una volta essiccati ed idratati, questi semi vengono quindi impacchettati in un doppio contenitore a chiusura armetica con silice che è un sistema colorimetrico che vi permette di vedere se eventualmente l'umidità relativa sta aumentando. L'umidità infatti rappresenta il fattore di maggior pericolo per la longevità dei semi. Una volta preparati quindi questi vasi vengono opportunamente etichettati con il nome accessione e conservati a meno 20. Dopo circa un mese, 1-3 mesi di conservazione, questi semi quindi vengono sottoposti alle prime prove di germinazione per valutare la germinabilità quindi dei semi, delle accessioni conservate. Per far questo di solito vengono utilizzate delle piaffe con agaracqua eventualmente aggiunte con aggiunta di fitormoni, vengono inserite in incubatori nel quale si può controllare il fotoperiodo e la temperatura e quando possiamo dichiarare un semi germinato quando si ha lo sviluppo sia della radichetta che del cotiledone. Alcuni dati sono state fatte prove su 60 accessioni, circa il 30% di queste accessioni presenta elevati valori di germinabilità, in molti altri casi invece la germinabilità è abbastanza bassa, per tre specie addirittura non siamo riusciti ad ottenere alcun semi germinato. Questo è principalmente dovuto al fatto che stiamo parlando di specie vegetali spontanee per il quale ci sono pochi studi e quindi in bibliografia abbiamo anche pochi protocolli che descrivono bene le condizioni ottimali di germinazione di questi semi e quindi questo è sicuramente un aspetto sul quale dovremmo lavorare e fare più ricerca. Ciò nonostante sono state rigenerate da queste prove 150 piantine, queste vengono consegnate al Parco Nazionale del Gran Paradiso che si occupa del loro mantenimento e della distribuzione eventualmente agli altri giardini botanici presenti in Valle d'Aosta. Tutti questi dati vengono quindi inseriti in un apposito database, dati sia di campionamento che di tutte le fasi di lavorazione della banca del germoplasma ed infine una parte di questi dati viene condivisa anche in un database internazionale gestito dalla Millenium Seed Bank Project nelle quali vengono inseriti tutti i dati provenienti da tutte le banche a livello mondiale. Un breve cenno sull'altro obiettivo appunto, l'attività didattica e divulgativa. La banca del germoplasma ha fatto parte sia di laboratori estivi che di progetti didattici svolti dal museo con le scuole ed è stato oggetto anche di diversi eventi divulgativi, alcuni dei quali anche svolti qui in biblioteca. Per concludere, collaborazioni e prospettive. Come ho già detto, col Parco Nazionale del Gran Paradiso già stiamo collaborando e sono essenziali soprattutto per la fase di campionamento e di mantenimento di queste specie che sono rigenerate e vorremmo riuscire a fare un progetto con loro anche di reintroduzione, in particolare questa specie iris sibirica, che è una specie che adesso è estinta in natura in Valle d'Aosta, un solo esemplare presente al vivaio regionale. In futuro vorremmo anche collaborare con il sito agricole per conservare i semi che loro stanno selezionando e conservando varietà agrarie e autoctone ed infine stiamo partecipando a reti nazionali ed internazionali. Per concludere, vi ringrazio dell'attenzione con questa immagine di un astragolo coda di volpe germinato. Grazie, grazie Fabio Guglielmo. Quindi adesso è il momento di Mauro Bassignana che parlerà dei semi della memoria alla recherche des grands perdus. è un direttore dell'Institut Recall Regional della Direzione della Sperimentazione. Il suo ambito tematico è quello delle coltivazioni erbacee. Prego. Grazie per avermi liberato dalla maschera. Buonasera a tutti. Io parlerò un po' di agrobiodiversità, abbiamo sentito parlare adesso della biodiversità. Io declinerò questo campo per quello che riguarda le varietà, le popolazioni di semi, di piante coltivate in Valle d'Aosta. Parto un po' da lontano facendo un po' riferimento a quelle che sono le fonti che ci raccontano qual è stata nel tempo la coltivazione dei cereali in Valle d'Aosta. La segale è prima di tutti, ma anche il grano, l'orzo, l'avena e anche il miglio fin dai tempi più antichi e comunque per quello che ci riguarda le attestazioni storiche risalgono almeno al Medioevo, erano molto coltivati nelle vallate alpine. Un libro molto interessante che parla proprio dell'agricoltura sulle Alpi nel Medioevo è questo Peisande des Alpes, pubblicato una decina di anni fa in Francia, che percorre un po' tutto l'arco alpino e ci racconta un po', compulsando le diverse fonti che esistono, qual era la situazione all'epoca. Diverse pagine sono dedicate alla Valle d'Aosta e davvero io lo consiglio, è una lettura molto interessante e istruttiva. La produzione di cereali nelle vallate alpine non era sostanzialmente sufficiente, ma peraltro in Italia non è mai stata sufficiente la produzione di cereali. I romani senza le loro colonie non avrebbero potuto sostenere la popolazione che viveva in Italia. In particolare nelle Alpi le arese erano molto basse, da 3 a 7 volte il seminato, ma molte volte due, due volte quello che si seminava, che vuol dire raccolta la granella, metà la si teneva per seminare l'anno successivo e si mangiava sostanzialmente la quantità esatta di quello che si era seminato l'anno prima. Nelle nostre vallate l'allevamento forniva sia una risorsa integrativa, sia anche un bene, prodotti che potevano essere commerciati proprio per comprare cereali, e le rotazioni che venivano tradizionalmente realizzate sulle Alpi, queste vallate erano o biennale, molto spesso, o più di rado triennale, che era la classica rotazione che prevedeva un cereale d'arnino, uno primaverile e un anno di maggese, quindi di terreno a riposo. Molto spesso però qui si faceva un anno cereale, segale soprattutto, e un anno leguminose da granella, quindi piselli, fagioli, lenticchie. In realtà, per quello che riguarda la situazione che vediamo intorno a noi, io ho fatto ricorso a dati storici perché se noi ci guardassimo intorno a noi oggi la cerealicoltura sostanzialmente vedremmo che non esiste, non vedremmo quasi dei campi di cereali intorno a noi. Vedete come nel giro di neanche un secolo si è azzerata quasi la superficie di seminativi di cereali in Valle d'Aosta, tenete conto che all'inizio del 1900 c'erano 8.000 ettari di seminativi solo nella nostra regione, nel 2020, parlando della segale, in tutta Italia ce n'è meno della metà, 3.600 ettari in tutto. Per quale motivo? Qui vedete un confronto di due foto di una frazione di Champorchè, Chardonnay, come si presentava all'inizio del secolo scorso, ma io direi intorno agli anni 20, 30, non tanto tempo prima, e come si presenta al giorno d'oggi. Vedete i campi di cereali completamente nascosti e seppelliti dall'invasione di vegetazione spontanea. Per quale motivo è scomparsa la cerealicoltura? C'è stata sicuramente la grossa competizione dei prodotti che arrivavano dalla pianura, man mano che si sono aperte le vie di commercio e di comunicazione e di trasporto, sicuramente conveniva comprare, costava meno, comprare piuttosto che coltivare con le rese basse che comunque qui si avevano. E' finita l'agricoltura in sussistenza, per cui sono spariti sia nel campo dei cereali, ma lo stesso vale per la vite. C'erano 3.000 ettari di vigneti all'inizio del Novecento, ce ne sono adesso 500 in tutta la valle. Quindi l'agricoltura destinata a sfamare la famiglia montanara è praticamente scomparsa. Il miglioramento genetico e delle tecniche culturali è sempre più orientato, le coltivazioni di cereali verso le pianure meccanizzabili, in cui le rese potevano essere decisamente più alte, i costi di produzione più bassi. Lo spopolamento delle vallate alpine ha fatto la sua parte, meno in Valle d'Osta, molto di più in altre vallate. L'inizio degli anni Sessanta è un po' considerato dappertutto, il momento della grande fuga. Ci sono un po' su tutte le valli, sia delle regioni italiane, sia anche delle regioni, dei paesi confinanti, proprio fra il Sessanta e il Sessanta e il Sessanta è stato il momento in cui la gente è veramente scappata verso le città, verso le opportunità lavorative che le città offrivano. All'inizio degli anni 2000 l'Institut Agricola ha cominciato le proprie attività per cercare di mantenere, di recuperare quello che si poteva ancora trovare come popolazioni locali di cereali. All'inizio ci hanno aiutato sia un centro federale svizzero, Agroscope, che aveva negli anni raccolto un po' di accessioni valdostane di segale e di grano, ci hanno dato delle piccole quantità che loro custodivano con le tecniche che ci sono state presentate adesso da Fabio Guglielmo, di varietà di segale e di grano valdostano. Una bella mano ce l'hanno date i tecnici dell'Assessorato dell'Agricoltura che hanno una conoscenza capillare del territorio e che quindi sapevano qua e là che c'era ancora qualche coltivatore di segale e un altro pezzo è stato fatto dai nostri allievi, dalle loro famiglie con il passaparola. Per cui nel corso del tempo siamo riusciti a recuperare un buon numero di accessioni, di cui non tutte però vitali, ma sostanzialmente siamo a una ventina di popolazioni ancora presenti di segale, altrettante di grano, una dozzina di popolazioni di mais, una di orzo e basta, di avena non abbiamo trovato più niente di germinabile. Una volta recuperati i semi, cosa bisogna fare? Bisogna cercare di conservarli. Per conservarli le possibilità sono due, o fare come hanno fatto sostanzialmente gli agricoltori che ce le hanno date, cioè fare piccoli campi separati fra di loro, distanti fra di loro, perché c'è anche il problema dell'incrocio. La segale è una pianta a fecondazione incrociata, per cui le popolazioni devono stare ad almeno 2 km di distanza, altrimenti il polline rischia di incrociarle, quindi la popolazione che noi abbiamo trovato finisce per diluirsi su un insieme. Nel caso del grano la distanza di sicurezza è di 500 metri. Alternativa è quella di seminare anche vicine, anche per una questione di praticità, le parcelle destinate alla moltiplicazione di seme, isolandole con delle reti antipolline nel periodo, almeno nel periodo della fioritura. Questa è una soluzione più pratica, ma anche più costosa evidentemente, queste reti sono care come il fuoco. Dopo aver conservato e moltiplicato queste sementi, bisogna anche cominciare a conoscerle, quindi caratterizzare da un punto di vista agronomico, ma anche tecnologico, e se si hanno i soldi, anche genetico, e questa è una delle cose appunto in discussione. Insomma, uno dei progetti che noi abbiamo e che riguarda appunto il Museo Fision-San, per avere una carta d'identità di queste varietà. Caratteristiche agronomiche sono, per esempio, la precocità, per esempio la resa, le componenti della resa, quelle tecnologiche che riguardano la trasformazione in farina e la panificazione. Noi abbiamo fatto delle prove in collaborazione con l'Università di Milano su alcune popolazioni di Frumento, Valdostano, e abbiamo intenzione di fare all'interno di un progetto di collaborazione con Agroscope e con colleghi svizzeri, fare una stessa cosa con delle popolazioni di Segale. E lo studio delle caratteristiche genetiche, diciamo, nel corso degli anni è diventato sempre meno costoso, ma comunque, insomma, tenuto conto del numero delle varietà, delle accessioni che noi abbiamo, resta comunque qualcosa da affrontare con una certa cautela. Una domanda che io mi sono fatto, ho cercato di dare qualche possibile risposta, è perché in Valle d'Aostra si siano conservate comunque così tante popolazioni locali di Segale, di Frumento, che non hanno pari nelle altre regioni. in Piemonte non hanno praticamente neanche una popolazione locale di Segale o di Frumento. Nel momento in cui dei colleghi piemontesi hanno cominciato a cercare di ripopolare, di ricreare un po' la seri agricoltura di montagna, sono venuti da noi a bussare per avere un po' di semente di varietà di montagna, quantomeno non piemontesi, evidentemente, ma almeno di montagna. Nelle altre regioni, in Lombardia o altrove, e tranne, direi con l'eccezione dell'Alto Adige, è più o meno lo stesso discorso. Secondo me, diciamo, alcune delle ragioni che potrebbero essere alla base di questo è da una parte che c'è stato, ritengo, un minor spopolamento delle vallate alpine e anche un mantenimento di un tessuto sociale, anche, direi, nelle valli un po' più periferiche, un po' più marginali, cosa che in Piemonte, una regione che conosco piuttosto bene, non è avvenuta. Un forte legame con le tradizioni, un attaccamento dimostrato, per esempio, anche dal grande successo della festa internazionale del Panner, che da cinque anni viene rinnovata, direi, con una bella partecipazione a un po' di tutta la popolazione della regione, nelle frazioni, ci sono 60-70 forni che partecipano. Aggiungerei anche, con un po' di immodestia, la presenza di un centro che si è occupato di questo, come l'Institut Agricole, che ha mantenuto e cercato di conservare queste popolazioni, d'altra parte anche la presenza di agricoltori e di trasformatori che sono interessati alla coltivazione, all'uso e alla trasformazione di queste popolazioni locali, per cui alcune delle popolazioni che noi siamo stati capaci di ritrovare sono poi entrate nel circuito di produzione e di trasformazione di produttori valdostani. Quindi si sono trasformati da mera conservazione, anche proprio in materia prima, per la produzione di prodotti locali. Altre risposte sicuramente potrebbero esserci, magari nella sala c'è chi ha altre idee, insomma, diciamo che sicuramente questo è un tema che mi piace sottolineare, perché fa sì, insomma, mette bene in evidenza che comunque qui in Valle d'Osta si è mantenuto, pur in una realtà così piccola, un patrimonio che è proprio rilevante. L'ultima domanda che io pongo, che mi impongo, perché bisogna sempre chiedersi perché si fanno le cose e che rivolgo a voi è perché ci si mette a lavorare in questo campo. Diciamo che dal mio punto di vista io trovo almeno due filoni di risposta. Uno, se vogliamo dire, più funzionale. Può darsi che un giorno le popolazioni valdostane venga fuori che hanno una resistenza particolare, un adattamento particolare. Può darsi, non lo so, ma anche se fosse, e anche se non fosse così, la seconda parte, forse quella che motiva di più il mio lavoro, che è più quello di un aspetto patrimoniale, una conservazione di un patrimonio che è stato creato nel corso dei secoli da chi viveva di queste coltivazioni, in qualche maniera è un elemento di archeologia rurale che contrapponga l'archeologia industriale e sono delle cose che, spiace dirle in questi giorni, pochi giorni dopo che è caduto l'arice di Morgè, ma sono in qualche modo anche loro delle piante monumento, queste popolazioni di segale e di grano che si sono tramandate di generazione in generazione, di anno in anno, e che sono arrivate fino a noi. Spiacerebbe proprio perderle. Grazie dell'attenzione. Grazie, Mauro Bassigliano. Grazie anche per essere stato puntuale nei tempi. Do ora la parola a Rita Bonfanti, istruttore tecnico della Regione Autonoma Valle d'Aosta, Dipartimento Agricoltura, che lavora nella struttura organizzativa, produzioni vegetali, sistemi di qualità e servizi fitosanitari. Il suo intervento ha il titolo Prendersi cura delle piante. Un piacere o una necessità? Prego. Grazie. Buonasera, grazie della vostra presenza. Saltiamo subito la seconda diapositiva. Ci troviamo qua perché commemoriamo l'anno internazionale della salute delle piante. Questa cosa è già stata detta, la giornata mondiale dell'alimentazione che si celebra proprio oggi. Perché le piante sono... Ah no, come si fa a far andare avanti? Accidenti. Sono già... Invio. Ok. Sono un'imbranata. Le piante sono importantissime. Queste cose si imparano alle elementari, però le ripetiamo un attimo qua, giusto per far presente che se non ci fossero le piante, la CO2 verrebbe continuamente prodotta... cioè no, non verrebbe soffratta dall'aria e questo è comunque proprio in questo particolare periodo in cui ci sono le emissioni dovute al consumo di combustibili fossili, controbilanciano l'effetto serra. Poi producono l'ossigeno che serve per la respirazione di tutti gli organismi viventi, hanno una funzione di tutela dei suoli e forniscono cibo a tutto il regno animale, sia agli erbivori indirettamente che ai carnivori indirettamente. Si stima, questa è una stima fatta dalla FAO, che a livello mondiale le perdite di prodotto dovute a patogeni e parassiti raggiungono fino al 40% della produzione annua, che è un dato enorme. E chi sono questi nemici delle piante e nemici anche degli agricoltori che producono cibo e che quindi vanno a rosichiare il loro reddito? Sono soprattutto insetti e funghi, però ci sono anche batteri, virus, fitoplasmi, nematodi, malerbe, anche animali superiori, ricordiamo i topi, eccetera, eccetera. Cosa sta succedendo ultimamente? Qualcosa che peggiora ancora di più la situazione, cioè l'aumento degli scambi, il commercio internazionale, abbiamo visto col coronavirus quanto si sta diffondendo velocemente, se non ci fossero, già che ci sono queste misure di prevenzione, ma lo stesso avviene anche nel mondo dei parassiti e dei patogeni vegetali. Gli scambi con i mezzi di trasporto più veloci favoriscono appunto la diffusione di organismi nocivi in tutto il mondo che normalmente sono confinati dall'isolamento geografico o da barriere naturali. Quindi, cosa succede quando arriva un organismo nocivo per le piante in un posto nuovo? Un'azione normalmente devastante sulle coltivazioni. Perché? Perché mancano gli antagonisti naturali nelle aree di nuova introduzione e di solito le piante non hanno quei meccanismi di difesa che si sono sviluppati assieme all'organismo nocivo. Quando parlava prima Bassignano mi veniva in mente uno dei motivi per cui conservare il germoplasma locale perché si è adattato proprio all'ambiente e viene meglio, insomma, in Val d'Aosta, piuttosto che in altri posti. Brevemente vi parlo un po' di storia. La peronospora della patata è arrivata nel vecchio mondo dall'America. In Irlanda ha fatto dei disastri. Ha cambiato la storia praticamente. C'è stata innanzitutto la morte di un milione di persone per carestia perché ha distrutto tutte le coltivazioni. E un altro milione di persone è migrato nel giro di cinque anni negli Stati Uniti d'America. Lo stesso è avvenuto per la peronospora della vite che è arrivata in Francia nel 1879 e si è diffusa ben presto in tutte le zone viticole del continente europeo provocando una gravissima crisi della viticoltura. E tra l'altro ha dato il via anche alla fitoiatria moderna perché casualmente si è scoperto che il rame curava praticamente la... cioè curava le piante contenendo lo sviluppo di questo fungo. La flavescenza del... sono esempi, ce ne sono tantissimi, sono i più antichi, se vogliamo. La flavescenza dorata della vite pur essendo endemico del continente europeo si è diffuso perché è arrivato in Europa lo Scafoideus titanus che è un insetto di origine nordamericana. Tanto per farsi un'idea di quanto è rapida l'invasione di organismi alieni in poco più di 40 anni e questi sono dati tratti da questo libro pubblicato dal Ministero nel 2009 ci sono state sono state segnalate più di 300 specie per la precisione 320 specie di insetti che non erano presenti prima sul territorio nazionale e moltissimi di questi non tutti ma moltissimi hanno causato dei danni importanti all'agricoltura. Ovviamente come per la salute umana ma anche per la salute dei vegetali è meglio prevenire che curare. Chi in qualche modo rappresenta la difesa delle piante dagli organismi nocivi in modo istituzionale è il Servizio Fitosanitario Nazionale che è composto dal Servizio Fitosanitario Centrale con sede presso il MIPAF e dai servizi fitosanitari regionali di cui fa parte il mio ufficio mio insomma non esageriamo l'ufficio di cui io mi occupo che istituzionalmente ha dei compiti di sorveglianza innanzitutto sulla non entriamo nello specifico sorveglianza con determinati metacanismi esiste il passaporto delle piante sorveglianza nei punti di entrata da paesi terzi che noi non abbiamo anche se c'è la Svizzera ma è equiparata all'Europa ma soprattutto sul monitoraggio sul territorio di quelli che sono degli organismi che sono considerati molto pericolosi e infatti tra questi c'è tutta una normativa molto complessa la comunità europea ha scelto ha dichiarato organismi nocivi prioritari 20 organismi nocivi ci sono sia insetti sia batteri come la xylella fastidiosa che sono oggetto di un'attenzione importantissima o perché non sono presenti in Europa o perché sono presenti ma ancora confinati e non devono assolutamente diffondersi appunto tra questi 20 ce ne sono 3 che sono già presenti in Italia e sono appunto xylella fastidiosa il coleotero giapponese e il tarlo asiatico adesso entriamo nel dettaglio e vediamo chi sono queste bestiace non parlerò solo di questi organismi prioritari parlerò ovviamente di quelli che sono pericolosi per la valdaossa quindi la xylella la lasciamo un pochino da parte non perché non abbiamo tanti ulivi ma perché in effetti attacca anche la vite ma perché ci sono condizioni climatiche che non favoriscono lo sviluppo mentre invece ci troviamo di fronte a queste bestiacce tipo il coleotero giapponese che è arrivato nel 2014 sul parco del Ticino proprio in una zona è stato trovato per la prima volta lì in una zona molto vicina all'aeroporto di Malpensa si chiama Popiglia japonica e purtroppo nonostante tutti gli interventi che hanno fatto i servizi fitosanitari lombardi e piemontesi perché ha cominciato a diffondersi da lì a Raggera tutto il intorno è arrivato due o tre anni fa già in Svizzera nel canton Ticino ma si sta diffondendo e ora le porte della Val d'Aosta è a meno di dieci chilometri dal confine e è stata dichiarata già una comuni che si trovano sul confine con il Piemonte sono stati dichiarati zona tampone perché lì ci va una particolare attenzione non possono essere movimentate piante con il pane di terra perché potrebbero contenere l'insetto che cosa fa non ne ho parlato tanto qui la vedete assomiglia un pochino alla filoperta articola maggiolino articolo che c'è da noi quest'anno ho avuto quattro segnalazioni c'è la popiglia in realtà era l'altro insetto che da noi c'è da una vita però si distingue per questi ciuffetti di pelli pelli bianchi che ha intorno all'addome e nella parte terminale dell'addome stesso si è provato anche a combatterla con degli organismi naturali tipo nematodi entomopatogeni per portare in equilibrio tutto ma abbiamo la forte preoccupazione che non funzioni le prime prove hanno dato un risultato infatti appunto in Lombardia in Piemonte un risultato che si attestava intorno al 50% la riduzione delle larve che si sviluppano nel terreno purtroppo l'insetto quando ha un ciclo annuale e durante l'estate si comporta come un defogliatore voracissimo e defoglia un sacco di piante tra cui melo rovo olmo vite tiglio e anche piante erbace poi il tarlo asiatico assente in Val d'Aosta grazie a cielo anche se il ritrovamento più vicino è della provincia di Torino nel 2018 molto grossa come potete vedere dal righello è lungo 3-4 cm ci sono due esemplari maschio e femmina impalati attacca decine di specie vegetali arbore dove scalva delle gallerie nella parte del colletto minandone la stabilità ci sono due specie in realtà che sono definite entrambe il tarlo asiatico la anoplofora chinensis e la glabri pennis la chinensis è stata la prima di essere stata ritrovata in Europa tra l'altro in provincia di Milano e non si sa come sia arrivata probabilmente su dei bonsai nel 2002 è stata poi ritrovata anche in altri paesi europei in Val d'Aosta non è ancora stata trovata anche se assomiglia a dei monocamus e anche in questo caso ha avuto delle segnalazioni però tutti questi insetti noi come servizio fitosanitario facciamo ogni anno un monitoraggio accurato per verificare anche contrappole attrattive per verificare se sono presenti degli individui è logico che non siamo sicuri al 100% che siano senti ma finora non abbiamo avuto segnalazioni e non l'abbiamo nemmeno trovato qui potete vedere come sono grossi non c'è un termine di paragone ma queste larve sono lunghe 4-5 cm i buchi hanno un diametro anche quelli di sfarfallamento di 2 cm sono dei giganti e l'eradicazione però è possibile perché ho appena ricevuto un documento da provincia di Rovigo cioè attraverso i servizi fitosanitari che è stato documentato che nella zona dove è stata trovata nel giro di 5 anni si è riuscito con interventi di taglio delle piante di istruzione è una cosa molto drastica e quando si trova un organismo nocivo bisogna andare più duro però si riesce poi a eradicare il moscerino asiatico noto anche come drosofila no questo è il nome scientifico drosofila suzuki assomiglia molto ai moscerini a frutta che ci sono in Europa e in Italia e fa dei danni analoghi nel senso che fa marcire la frutta e che fermenta e c'è una fermentazione acetica si attacca alla frutta c'è un disfacimento della polpa la differenza e la pericolosità la differenza tra il moscerino locale e la sua pericolosità sono dovute al fatto che le femmine hanno un uovo oppositore dentato che permette di deporre l'uovo anche nella frutta integra quindi se noi abbiamo la frutta che è già marce ci va sopra un moscerino pazienza era già marcia ma in questo caso la frutta anche in pianta in prossimità della maturazione si altera e se non viene combattuta adeguatamente e purtroppo gli insetticini non bastano bisogna intervenire con delle reti anti-insetto c'è una bella notizia la tricopria drosophile che non è molto attiva sta per essere sostituita se funzionerà ci sono questi studi in atto dalla fondazione Marta di Trento con due i menotteri all'octoni ganasipsis brasiliensis e leptopilina japonica quest'ultima è stata trovata casualmente nei ceresetti del Trentino poi la cimice asiatica agliomorfa alis è altamente polifaga c'è in Val d'Aosta ma non ha ancora fatto danni in ogni caso i servizi fitosanitari colcrea nelle altre regioni dove è presente in modo massiccio stanno lanciando la famosa vespa samurai che si spera dovrebbe riportare in equilibrio tutto come è avvenuto col cinipide del castagno che è stato arrivato in Val d'Aosta nel 2011 ed è stato debellato dai lanci debellato no c'è ancora ma è entrato in equilibrio con questo nuovo insetto io sono la più lunga di tutte vabbè concludo dicendo che le piante non hanno solo una funzione alimentare cioè è una necessità difendere però non dobbiamo dimenticare ribalto quindi la domanda del titolo che hanno anche una funzione ricreativa quindi dobbiamo prenderci cura delle piante non solo per questo ma anche perché sono un piacere per l'anima grazie grazie Rita Donfante è giunto il momento del del centro d'etudes les anciens remèdes di Jovenson Anna Montrosset che è il presidente ci parlerà di jardin des anciens remèdes orto giardino etno botanico mi libero anch'io allora buonasera io stasera sono qui in veste di rappresentante del centro d'etudes les anciens remèdes associazione che gestisce da una decina d'anni la maison des anciens remèdes e ormai da quasi cinque anni è l'omonimo jardin des anciens remèdes appunto della nostra esperienza relativa al jardin di cui voglio così accennarvi questa sera il jardin des anciens remèdes nasce perché esiste la maison des anciens remèdes e nasce come ampliamento della sua offerta come necessità di ampliare la sua offerta necessità che proviene anche dai visitatori che nel corso degli anni visitavano la maison che quindi non si accontentavano di vedere magari le piante essicate nei cassetti della farmacia della maison di sapere degli antichi rimedi di sentire i profumi che ci sono attraverso questo viaggio sensoriale nella maison ma che volevano poi vivere dal vivo le piante e quindi ci mettiamo alla ricerca di un terreno cosa un po' difficile a Jovansan un terreno che fosse pianeggiante vicino alla maison des anciens remède cioè perlomeno non troppo lontana troviamo questo terreno riusciamo a individuarlo tra i due comuni di Jovansan e di Gressan là dove c'era un letamaio un terreno di circa 2000 metri quadri quindi quello che serviva subito erano i fondi per fare una bonifica e per impiantare questo giardino interviene il comune di Jovansan che si prende carico dei lavori attraverso dei fondi GAL che sono messi a disposizione in quell'anno anche dal comune di Gressan perché anche il comune di Gressan partecipa a questa iniziativa perché il jardin doveva costituire un trade union tra le due maison dovrebbe costituire deve costituire ancora oggi tra le due maison la maison des anciens remède che qui vediamo inserita nel suo contesto di centro del paese e la maison de Gargantua che si trova a Gressan attraverso un percorso che attraversa prati frutteti eccetera passa nel jardin des anciens remède che vedete qui quello che vedete è solo la pianta centrale in realtà il giardino occupa tutta questa area si passa poi attraverso un bel angolo diciamo medievale nella Val d'Aosta forse ancora poco conosciuto che è poco valorizzato più che altro la Tour de la Plantat la chiesa della Madeleine la Maison Gargantua per rientrare poi alla Tour de Villa e attraverso un sentiero più o meno pianeggiante che può passare anche lungo il rio sempre nato diciamo nel tardo medioevo si ritorna alla Maison des anciens remède quindi da qui nasce il Jardin des anciens remède così come lo vediamo adesso a cosa è dovuta a chi è dovuta la scelta di questo aspetto che è attuale del Jardin des anciens remède noi avevamo l'idea di farne un giardino di piante officinali poi in quel momento lavoravamo collaborava con noi l'esperta in etnobotanica Giuseppina Margheretta che ci ha sposato diciamo si è entusiasmata rispetto al nostro progetto e ci ha dato l'interessante idea di farne non un giardino di piante officinali ma un orto giardino etnobotanico di ispirazione medioevale e quindi con quale obiettivo con l'obiettivo di raccontare le piante che fino almeno a una decina di anni fa erano presenti negli orti valdostani e che adesso si stavano dimenticando quindi anche un piccolo contributo se vogliamo da parte nostra a mantenere una parte di biodiversità quindi arriviamo al giardino vediamo qui l'ispirazione medioevale perché è preciso che non è un giardino medioevale prende ispirazione dal medioevo vediamo ad esempio attraverso la pianta croce per essere anche in sintonia con quello che è l'area in cui si è geografica in cui si colloca quindi un'area in cui sono presenti comunque in cui c'è comunque un angolo di medioevo in questo giardino trovano questo giardino che dicevo è di 2000 metri quadrati è costituito da una parte diciamo rettangolare che è il cuore dell'orto in cui sono coltivate piante da orto appunto in questo senso si tratta di orto piante da orto che sono nella prima parte più aromatiche e officinali nella seconda parte più alimentari il perimetro di questo orto è costituito da piante da fiore perché queste erano utilizzate nei giardini negli orti valdostani piante da fiore che erano poi utilizzate per usi cultuali cimite ornare le tombe la chiese e così via quindi orto giardino perché giardino perché queste piante da orto sono piante belle quindi il resto del giardino è fatto da sempre da piante da orto che però noi vogliamo mostrare come piante belle che potrebbero uscire non solo da questo cuore centrale che abbiamo lì in questa pianta rettangolare ma quindi non uscire solo da questa pianta centrale e andare a colonizzare per così dire il nostro giardino ma potrebbero essere piante che per la loro bellezza la loro essere ornamentali potrebbero andare anche nei giardini delle nostre case qui abbiamo un esempio delle piante che coltiviamo nel giardino des anciens remède quindi eccole qua sono piante che sono utilizzate che sono piante utili che c'erano negli orti ma stanno bene anche al di fuori dell'orto piante quindi abbiamo detto orto giardino orto giardino etnobotanico perché etnobotanico perché queste piante assieme a se stesse non raccontano solo se stesse ma con in continuità con la visita che si fa alla maison des anciens remède raccontano le storie delle persone che nei secoli le hanno le hanno seguite curate e portate sino a noi piante che a volte partono sono piante che esistevano già nel medioevo e poi con inserimenti nei secoli successivi sono state portate poi nel nostro giardino quindi dicevo etnobotanico perché lasciando la maison des anciens remède dove appunto è centrale non sono centrali non solo le piante ma sono centrali anche le persone che le curano che utilizzano gli antichi rimedi arriviamo poi al jardin des anciens remède così come adesso un giardino che quindi è un museo a cielo aperto dove le piante raccontano le loro storie più belle dove questo giardino deve essere visto come custode della memoria della memoria di piante che altrimenti rischierebbero di scomparire perlomeno nei nostri orti di piante che raccontano che portano con sé anche storie fatte di aneddoti di ricette di ricordi che anche magari un profumo la vista di una pianta può evocare quindi ecco questo è un po' la nostra esperienza e vi invito a venire insomma a vederlo grazie grazie mille per questo bell'intervento grazie Anna Montrosse passiamo ora la parola a Marco Tesoro dell'orto botanico lo dico bene dell'orto sociale come luogo di apprendimento cura e benessere una risorsa da riscoprire per una svolta green ai tempi del coronavirus Marco Tesoro è un biologo dell'associazione agricoltura biologica e biodinamica della Valle d'Aosta l'ambito tematico è quello dell'agricoltura biodinamica sociale e didattica grazie prego buon pomeriggio a tutti vi ringrazio a nome dell'associazione per l'agricoltura biologica e biodinamica della Valle d'Aosta per averci dato l'opportunità di portare qui in questo incontro la nostra esperienza parlerò di orto sociale e le immagini che vedrete passare alle mie spalle dovrebbero aiutarvi a interagire meglio con quello che io vi dirò le immagini sono state raccolte in dieci anni di lavoro dal vicepresidente Valerio Bino che le ha messe insieme in una sequenza che ci permetterà di spostarci lungo le esperienze che sono state fatte nel territorio urbano di Aosta il lavoro che viene svolto in questi orti è fatto da volontari e grazie alla presenza di all'accesso a progetti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali riusciamo a compiere una serie di lavori in diversi orti nel comune di Aosta il più vecchio quello che è nato nel 2014 è l'orto nella zona Cogne nel quartiere Cogne dove sono stati effettuati dei lavori con delle scuole è seguito negli anni successivi il lavoro in un orto vicino sotto la cattedrale e tra il 2014 e il 2017 con l'orto con l'ortus inclusus è stata recuperata la zona di via Carabella dove c'erano dei vecchi orti comunali nei primi due casi che ho citato il lavoro è stato fatto prevalentemente con le scuole negli orti di via Carabella invece si è andato a lavorare con gli anziani ma anche con gli immigrati grazie al lavoro di alcune cooperative sociali questo lavoro qui con i migranti è sfociato da una parte nell'inserimento di queste persone nel mondo del lavoro ma anche nella creazione di un vero e proprio di una vera e propria cooperativa agricola che tuttora opera all'interno dell'orto dove noi ultimamente stiamo operando cioè l'orto di Sant'Orso nell'area Crer di fronte al vecchio cimitero di Aosta in questa superficie di circa 3.000 metri quadri noi facciamo da una parte c'è l'orto didattico quello dove l'associazione opera e dall'altra invece c'è questa cooperativa agricola che produce ortaggi questo orto è inteso come luogo di aggregazione infatti nel venerdì pomeriggio altri produttori della Val d'Aosta vengono a proporre i loro prodotti in un mercatino in un mercatino rurale l'associazione per l'agricoltura biologica e biodinamica si differenzia in due parti più o meno precise nel senso che abbiamo un'anima più agricola e un'anima invece un po' più sociale l'anima più agricola si occupa di quella che è la coltivazione e utilizza quelli che sono i dettami dell'agricoltura biodinamica l'agricoltura biodinamica ha diversi pilastri uno quello principale che mi preme di sottolineare in questo momento è quello di vivificare il terreno cioè noi consideriamo il terreno non come un substrato amorfo dove le piante crescono ma bensì un organo vivo e vitale che permette alla pianta di potersi sviluppare poter crescere in salute se la pianta è in salute è meno soggetta ad attacco di patogeni quindi questo lavoro di vivificare il terreno lo facciamo sia con le buone pratiche agricole che sono il sovescio che sono le rotazioni che sono le consociazioni ma anche con il lavoro sulla biodiversità cioè noi cerchiamo di mantenere e incentivare quello che è la biodiversità presente sui terreni stessi questo ci permette di dire che la nostra agricoltura è un'agricoltura che noi facciamo è un'agricoltura a basso impatto ambientale perché non utilizziamo prodotti chimici né per la crescita né per il contenimento delle patologie dei patogeni utilizziamo una quantità di acqua inferiore rispetto all'agricoltura normale e riduciamo quelle che sono le emissioni dell'atmosfera perché comunque la produzione in loco la produzione all'interno di un tessuto urbano come può essere la città di Aosta di prodotti di consumo permette un minore spostamento di rate alimentare sul territorio e quindi una minore emissione di atmosfera per quanto riguarda il lato più sociale l'orto urbano è visto come luogo di interazione e di inclusione per persone che sono in difficoltà di tutti i tipi per cui specialmente in questo periodo in cui siamo soggetti a questa pandemia abbiamo visto che comunque un luogo comune un luogo di aggregazione è stato ricercato dalle persone lo è sempre stato perché comunque gli orti urbani hanno sempre avuto una valenza importante non solo sul territorio nazionale ma in tutta Europa in questo momento lo sono ancora di più e oltre a questo un luogo di apprendimento perché per quanto riguarda i più giovani è un luogo dove si può avere delle attività esperienziali e quindi i bambini possono venire a imparare determinate tecniche facendo un'esperienza per loro molto positiva e per gli adulti c'è uno scambio di saperi molto spesso i volontari tra i volontari stessi o le persone che accedono all'orto per diversi motivi c'è uno scambio di saperi perché comunque molti hanno delle radici contadine e quindi c'è tra di noi e tra loro uno scambio delle informazioni per quanto riguarda la coltivazione e un uso delle erbe e degli ortaggi più consapevoli sia per la cucina ma anche per la cura della persona in conclusione l'orto urbano a nostro parere è un luogo importante per quanto riguarda la consapevolezza della persona stessa perché mette ci permette di comprendere quelli che sono le origini del cibo è uno scambio intergenerazionale è uno scambio di saperi tra le persone e fa un piccolo passo nel contrasto al cambiamento climatico per le cose che dicevo prima inoltre può essere considerato un luogo di benessere perché permette di curare oltre al corpo grazie agli alimenti che noi andiamo a coltivare e poi a consumare e anche per lo spirito che comunque è parte integrante del nostro del nostro essere vi invito a venirci a trovare e vi ringrazio grazie grazie marco vorremmo trovarla bene è il momento adesso di Ivan Rollè istruttore tecnico del corpo forestale della valle d'Aosta il suo intervento si intitola l'ecosistema foresta una risorsa naturale da gestire e preservare l'ambito tematico è quello della patologia forestale buonasera a tutti appunto vi parlerò delle foreste della nostra regione sul ruolo che queste foreste svolgono e come queste foreste devono essere gestite al meglio quindi partirei con una panoramica generale dandovi alcuni dati l'ultimo censimento sulla superficie delle foreste del 2011 e abbiamo circa poco meno di 100.000 ettare di foresta che rappresentano il 30% del territorio regionale questa è una superficie che in apparenza potrebbe essere una percentuale che potrebbe essere valutata ridotta in realtà dobbiamo considerare che il 20% circa del territorio è coperto da ghiacciai da rocce e da zone inospitabili per la foresta quindi l'indice di boscosità della nostra regione è piuttosto elevato e lo vediamo anche da un da un altro parametro se andiamo a paragonare la superficie forestale rispetto alla popolazione ci rendiamo conto che ogni abitante ha a sua disposizione circa poco più di 7.000 metri quadrati che paragonato a un dato nazionale è circa 5 volte superiore naturalmente la superficie delle nostre foreste non è sempre stata uguale a quella attuale ci sono state delle fluttuazioni nel tempo i primi dati in nostro possesso sono della metà del 1700 e come potete vedere già in quel periodo le foreste erano molto più ridotte rispetto a ora poi c'è stata una forte riduzione della superficie fino a metà del 1800 questo perché l'uomo aveva necessità di disporre di nuovi terreni per le coltivazioni agricole venivano tagliato anche il bosco per la produzione del carbone utilizzato nella siderurgia successivamente alla metà del 1800 c'è stato l'inizio dell'abbandono dell'agricoltura sono stati fatti anche dei rimboschimenti tra le due guerre mondiali e quindi la foresta piano piano ha ripreso il suo spazio ed è arrivata fino alla superficie che occupa attualmente a livello di proprietà circa il 60% delle foreste sono di proprietà privata e sono costituite prevalentemente da latifoglie in primis il castagno e sono collocate soprattutto nella zona meridionale orientale della nostra valle mentre le foreste di proprietà pubblica sono soprattutto dei comuni e rappresentano il 40% la foresta svolge diverse funzioni qui ve ne ho elencate solo alcune non è un elenco esaustivo ve le descrivo brevemente sicuramente quella paesaggistica la foresta è una componente fondamentale del paesaggio dell'ecosistema non potremmo immaginarci una regione priva di foreste ovunque noi siamo tra 300 metri e il limite superiore del bosco troviamo boschi intorno a noi sicuramente un'altra funzione molto importante è quella di protezione idrogeologica le foreste riducono sicuramente le frane le valanghe la caduta di massi il ruscellamento delle acque superficiali e quindi in una regione alpina come la nostra dove abbiamo parecchie zone parecchio clivi la loro funzione è molto importante ricreativa tutti noi andiamo in bosco per vari scopi per andare a raccogliere funghi piccoli frutti o semplicemente per andare a fare una passeggiata e poi la foresta è un ecosistema è una casa dove all'interno della quale vivono diversi organismi vegetali e animali che interagiscono tra di loro trovano nella foresta un luogo di riparo è un luogo in cui anche alimentarsi non ultima anche la la funzione di produzione di prodotti legnosi in valle d'aosta prevalentemente per il 70% sono costituiti da legna da ardere quindi che viene utilizzata per il riscaldamento il restante 30% come legna per le costruzioni l'attuale cambiamento climatico che è sotto l'occhio di tutti noi con l'aumento delle temperature medie e anche una distribuzione delle piogge che è sempre più irregolare in cui abbiamo periodi di forte siccità alternati poi a brevi periodi in cui ci sono forti precipitazioni tutto ciò ha delle ripercussioni sull'ecosistema foresta che può essere il cui equilibrio può essere minacciato qui vi ho elencato alcuni fattori che possono appunto compromettere la stabilità e l'equilibrio ecologico delle foreste negli anni già negli anni 80 abbiamo avuto degli attacchi parassitari da sculitide in questo caso l'ips tipografus che è un piccolo insetto che causa il dissecamento soprattutto dell'abete rosso e si verifica nelle annate successive a caduti di alberi in foresta quindi quando abbiamo delle trombe d'aria l'anno gli anni successivi dobbiamo aspettarci che arrivi questo piccolo insetto qui vi ho messo una diapositiva scattata una foto scattata quest'anno un mese fa qui siamo a Saint-Toyen e vedete l'effetto dell'attacco di questo insetto quindi a piccoli nuclei fa disseccare il bosco in passato abbiamo avuto anche altri insetti tipo l'alimante monaca che è una farfalla che ha provocato dei danni soprattutto nella valdigne e a seguito della quale è stato necessario tagliare migliaia di piante qui una foto del 2016 questo sembra un bosco completamente morto e dell'effetto della processionaria del pino una foto scattata nella primavera dove si vedono gli effetti del dissecamento dell'erosione fogliare causata da questo insetto in realtà nell'anno successivo tornando in questa zona abbiamo visto che il bosco è tornato completamente verde quindi si è ripreso il cambiamento climatico fa sì che arrivino nella nostra regione anche degli organismi che normalmente non sono presenti qui vi ho segnalato un fungo termofilo di origine mediterranea che è stato segnalato per la prima volta nel 2017 e ha iniziato a causare dei dissecamenti su parti della chioma o anche su piante intere portandole anche alla morte qui vediamo sempre un'immagine dei danni causati da questo fungo in una pienetta di pino nero qui invece un'immagine di quest'anno chi di voi magari passeggia nella regione si sarà accorto che in molti lariceti era evidente un fenomeno di ingiallimento delle foglie delle chiome anche qui si tratta di un altro fungo che è stato favorito dalla primavera piuttosto umida e piovosa che è ciò che generalmente avviene per i funghi i funghi sono sempre favoriti da condizioni di temperatura e umidità elevate sotto l'occhio di tutti anche con il fiamano vaia gli schianti da vento e da trombe d'aria che possono creare dei danni molto importanti qui vediamo per esempio un danno di forti raffiche in un riceto nel comune di Sermian Bos anche le nevicate tardive caratterizzate da neve bagnata e pesante può provocare la rottura delle piante o anche la caduta della pianta stessa anche le frane quando sono particolarmente grandi possono creare dei danni al bosco distruggendolo questa è una foto di quest'inverno a Saint-Yen dove si è staccata una grossa frana che ha distrutto il bosco anche gli incendi sono un altro fattore che crea dei gravi danni ai nostri boschi come già è stato detto da chi mi ha preceduto il cambiamento climatico abbinato anche agli intensi scambi commerciali che sono sempre più frequenti possono fare arrivare nella nostra regione degli insetti nocivi qui vi ho fatto alcuni esempi per fortuna di queste foto che vi ho messo solo uno è arrivato in valle d'aosta che è il cidimpine del castagno in alto a sinistra gli altri organismi per ora non sono ancora arrivati ma sono gesto sempre di monitoraggio per svolgere tutte le funzioni di cui vi ho parlato prima il bosco deve essere gestito gestito come a livello di foreste pubbliche i boschi sono gestiti attraverso dei piani di assestamento forestale che sono redatti da dottori in scienze forestali e danno le indicazioni su quali sono gli interventi che devono essere fatti nel tempo all'interno del nostro bosco la pubblica amministrazione in particolare la direzione foreste e sentieristica si occupa di effettuare questi interventi attraverso delle proprie maestranze oppure attraverso degli appalti a ditte esterne il tipo di interventi che vengono fatti sono interventi di servicoltura naturalistica cioè in poche parole si cerca di imitare le dinamiche naturali della foresta chiaramente abbreviando i tempi perché le foreste hanno dei tempi più lunghi rispetto a quelli di cui l'uomo ha necessità quindi noi dobbiamo abbreviare questi tempi facendo degli interventi creando delle piccole buche all'interno della foresta favorendo la rinnovazione la mescolanza la distribuzione di diametri all'interno della foresta gli interventi dicevo vengono coordinati dall'avviazione foreste con l'ausilio del corpo forestale dell'area d'osta che si occupa di martellare cioè segnare le piante che devono essere abbattute effettua poi anche i controlli dopo l'intervento al fine di verificare che sia stato fatto correttamente un altro dato tanto per darvi un'idea voi dovete immaginare le foreste come un capitale in banca questo capitale mi dà un interesse l'interesse che noi andiamo a prelevare è solo il 12% cioè le foreste crescono ogni anno le foreste crescono circa 100.000 metri cubi e noi andiamo a prendere solo 14.000 metri cubi ciò significa che le foreste continuano a aumentare non solo di superficie ma anche di volume se paragoniamo le attuali utilizzazioni con quelle del passato ci rendiamo conto che una volta negli anni 50 si prelevava circa 5 volte di più rispetto alla situazione attuale quindi in sintesi se vogliamo che le nostre foreste continuino a svolgere nel tempo tutte le funzioni di cui vi ho parlato prima sicuramente non possiamo rimanere con le mani in mano ma dobbiamo gestire in maniera corretta questo patrimonio e con la sinergia delle diverse strutture dell'amministrazione regionale da ultimo vi accenno brevemente a questo progetto Interreg Italia-Svizzera che è in atto è partito nel agosto 2019 e si concluderà tra due anni e vede come partner Italia-Svizzera lo scopo di mettere a fattore comune delle conoscenze sui principali patogeni sia insetti e funghi che minacciano le nostre foreste al fine di migliorare la gestione e prevenire i possibili danni sul patrimonio forestale vi ringrazio per l'attenzione grazie grazie e riva e ronè adesso è il momento di Matteo Garbarino professore associato di ecologia forestale all'Università di Torino Dipartimento Scienze Agrarie Forestali e Alimentari il suo intervento si intitola Conoscere il passato per gestire il futuro storie e dinamiche del paesaggio forestale del Montavic l'ambito tematico è quello dell'ecologia forestale l'ecologia del paesaggio e l'ecologia storica tanta ecologia tanta ecologia buonasera a tutti sì un titolo un po' roboante semplicemente per dire che conoscere il passato e i dati storici in generale sono fondamentali esiste addirittura una una branca dell'ecologia una materia che si chiama historical ecology in inglese ecologia storica in italiano che ha uno scopo fondamentale cioè quello di cercare di capire nel caso in cui si voglia ricostruire ristabilire un ecosistema forestale ma non solo forestale cercare di capire come questo ecosistema era prima dell'intervento dell'uomo e quindi come che cosa dovremmo fare per farlo ritornare in quel in quello stato a disposizione abbiamo diverse tipologie di dati dati storici sicuramente quelli di tipo cartaceo parliamo di archivi di vario tipo appunti o schede cartografia di diverso tipo quindi piani di assestamento forestale carte topografiche catasti fotografie aeree ma anche fotografie diciamo prospettiche quelle che venivano scattate e che scattiamo tutt'oggi sul nostro paesaggio dipinti che ci fanno vedere come veniva utilizzato tradizionalmente ad esempio il bosco e altri dati di tipo storico che sono sicuramente molto interessanti che diciamo qui in questa slide io ho cercato di riassumere in due principali tipologie quindi la paleoecologia che vedete a sinistra che ci permette di raccogliere attraverso delle carote sui fondali dei laghi pollini macrofossini e carboncini che fondamentalmente ci dicono qual è stata la storia dei disturbi se ci sono stati degli incendi o degli interventi particolari e soprattutto qual era la composizione specifica quindi quali specie forestali e non erano presenti sul sito tutto ciò registrato come in un codice a barre quindi in una carota lacustre una cosa simile l'abbiamo in dendroecologia quindi abbiamo i nostri i nostri alberi che hanno un codice a barre costituito dagli anelli legnosi e fondamentalmente dalla dimensione di questi anelli legnosi cerchiamo di ricostruire il clima passato e anche alcuni eventi importanti sappiamo che se all'interno di un popolamento forestale è avvenuta una qualche dinamica di disturbo o di competizione l'albero registra questa informazione con la dimensione dell'anello è già stato detto precedentemente che forse i dati non saranno esattamente identici ma diciamo che la cosa che ci interessa è il trend che le foreste valdostane non solo quelle valdostane anche quelle appenniniche alpine in generale e di alcune regioni del mondo sono in espansione sono in espansione ma hanno vissuto come si diceva una fase di declino tra diciamo tra il settecento e l'ottocento dovuta a diversi aspetti e a me interessa sottolineare in questo caso l'utilizzo dei boschi per creare carbone per alimentare gli altiforni delle miniere attività mineraria che quindi ha indirettamente causato un depauperamento dell'ecosistema forestale quindi una semplificazione della struttura del bosco e quindi noi oggi ci troviamo dei nuovi boschi che sono sempre di più e che sono fondamentalmente dei boschi giovani con una struttura semplificata l'aspetto legato alla creazione del carbone dal legno forestale lo vediamo un pochino sintetizzato qui fondamentalmente un tempo si trasformava in carbone tutto quello che c'era a disposizione si livellava il versante per creare queste queste aie carbonili che sono spesso di forma tondeggiante dove era necessario si costruivano questi muretti a secco e poi si faceva questa specie di capannina costituita da da legno e così via questa operazione come dicevamo ha semplificato ha ridotto la diversità dei nostri boschi sia da un punto di vista della composizione specifica perché quando andiamo a tagliare fondamentalmente soprattutto se tagliamo tanto favoriamo solo un certo tipo di specie le specie pioniere e soprattutto abbiamo una semplificazione di tipo strutturale cioè l'organizzazione in piani verticali e anche in orizzontale degli alberi questi interventi soprattutto legati alla produzione di carbone erano anche fatti con turni si dice in selvicoltura cioè con periodi di taglio molto brevi quindi si tagliava frequentemente questo ovviamente ha creato problemi per la rinnovazione per la stabilità dei versanti e anche quindi da un punto di vista erosivo un esempio di queste di queste dinamiche è sicuramente il Montavik con il quale stiamo collaborando come università per il progetto Mineralp in questo slide in alto a sinistra vedete l'area di studio che abbiamo preso in considerazione se andiamo a zoomare nella parte meridionale del parco troviamo un piccolo lago e a un certo punto ci incuriosisce questa forma ci incuriosisce forse perché ho indirizzato un pochino la curiosità fondamentalmente vediamo questa forma questa specie di arco ingrandendo ancora effettivamente sembra proprio un arco probabilmente è un'aia carbonile ed effettivamente andando in loco si trova un'aia carbonile vi esorto andando a fare delle passeggiate nei nostri boschi a cercare queste aie carbonili che in certe zone della Valle d'Aosta ma non solo della Valle d'Aosta anche in Piemonte e in altre zone d'Italia sono veramente frequenti non ci si fa caso perché non si ha l'occhio ma sapendo che è possibile trovarle vi esorto a cercarle una sorta di caccia al tesoro che cosa abbiamo fatto con questo progetto abbiamo fondamentalmente preso dei dati storici ne abbiamo parlato in breve prima quindi delle foto aeree foto aeree storiche che abbiamo ortorettificato mosaicato in sostanza abbiamo cercato di farle combaciare tra di loro quindi per un periodo che intercorre dal 1965 al 2017 abbiamo analizzato i cambiamenti a scala di paesaggio delle diverse superfici forestali e non e poi siamo andati in campo a misurare le strutture dei boschi a mappare le aie carbonili e a estrarre alcune informazioni da queste aie carbonili per cercare di capire come erano i boschi un tempo da questa animazione semplicemente volevo farvi notare una dinamica tipica diciamo delle alpi ma anche degli appennini se vogliamo e cioè il fatto che questa espansione forestale avviene fondamentalmente diciamo ci sono due tipologie principali la chiusura delle radure che vedete in arancione e anche uno spostamento verso l'alto quello che in inglese si chiama tree line shift del limite superiore del bosco e però questa ovviamente è un'analisi di tipo visivo quindi che cosa abbiamo fatto essendo ecologi siamo andati a misurare e abbiamo misurato appunto tutte queste superfici vedete in questa animazione il colpo d'occhio è abbastanza chiaro si vede questa macchia verde scuro che sono i boschi che si espandono sulle superfici del parco dal periodo del 1965 fino ai giorni nostri sulla destra abbiamo delle sintesi di questa dinamica quindi in rosso abbiamo i cambiamenti di qualsiasi tipo non solo legati all'espansione boschiva mentre nella parte bassa a destra della slide abbiamo l'espansione a foresta dicevamo per capire che cosa c'era prima ovviamente non basta stare in ufficio e analizzare le foto aere siamo andati in campo abbiamo mappato le strutture principali presenti all'interno del parco e quindi abbiamo anche estratto delle carote legnose per avere delle informazioni sulla struttura dell'età quindi sull'età di questi di questi boschi e sulla loro composizione specifica per quanto riguarda le aie carbonili e vi dicevamo abbiamo mappato quindi siamo andati in campo e abbiamo mappato le aie carbonili le abbiamo misurate abbiamo cercato di capire che vegetazione oggi è presente che quindi invade le aie carbonili e attraverso un piccolo scavo abbiamo estratto dei carboncini questi scusate questi carboncini è possibile attraverso questi carboncini è possibile risalire alle principali categorie forestali presenti un tempo nel senso che possiamo andare molto indietro nel tempo e capire come erano i boschi quando venivano trasformati in carbone conoscere il passato dicevamo per gestire il futuro con questa slide volevo semplicemente rendervi partecipi di un di un apparente problema nel senso che il cambiamento climatico ci dice che e lo vediamo in questa animazione anche se c'è qualche problema di tipo estetico le conifere andranno fondamentalmente quasi tutte le conifere forse il pino silvestre un pochino meno andranno a ridursi come importanza come reale diciamo come probabilità di presenza come ci dice questa carta i dati invece storici che abbiamo appena visto che cosa ci dicono dal punto di vista del cambiamento dell'uso del suolo che i boschi si stanno espandendo e le conifere si stanno espandendo e quindi che cosa fare evidentemente queste due informazioni e devo dire ahimè la scienza spesso non fa questo tipo di operazione questo tipo di cambiamenti vengono studiati tendenzialmente separatamente invece quello che stiamo cercando di fare è di unire i modelli di cambiamento climatico che fondamentalmente si nutrono di dati storici climatici con i modelli di uso del suolo che invece vengono costituiti da dati di cambiamenti dell'uso del suolo in che modo? con degli altri modelli dei modelli di distribuzione delle specie che sono fondamentalmente dei modelli statistici che calcolano l'habitat attuale delle nostre specie non solo quelle forestali io mi occupo di foreste quindi come esempio vi porto questo ma questo viene fatto anche per specie arbacee e specie arbustive quindi dicevo modelli statistici che sintetizzano le caratteristiche dell'habitat di una specie e poi le proiettano nel futuro dicevo tendenzialmente basandosi sui cambiamenti climatici quindi sui modelli di cambiamento climatico quello che si sta iniziando a fare è quindi far interagire i modelli di cambiamento climatico con i modelli di cambiamento dell'uso del suolo perché perché capire quali sono le specie che tendenzialmente questi modelli non ci diranno mai in quel punto lì preciso nel 2100 ci sarà un lariceto però ci danno una probabilità una tendenza di crescita o decrescita di certe specie perché è interessante perché a noi interessa gestire in maniera sostenibile i boschi con quest'ottica qui ci sono dei cambiamenti in atto il cambiamento dell'uso del suolo dovuto all'abbandono e allo spopolamento delle vallate alpine i cambiamenti climatici cerchiamo di favorire di rendere più resistenti e più resilienti e cioè capaci di ritornare allo stato iniziale dopo un disturbo i nostri boschi e vi ringrazio per l'attenzione grazie grazie Matteo Gerbarino siamo arrivati all'ultimo intervento previsto che è quello di Alessandro Rota che è il dirigente della struttura politica e regionali di sviluppo rurale del dipartimento agricoltura che è la persona con cui abbiamo collaborato è già finito? è già finito bene così scusate e quindi lascio concludere anche i lavori prima di passare alle domande del pubblico prego Alessandro buonasera a tutti grazie per questo invito Giosette e della collaborazione per creare questo evento dividerò l'intervento in due momenti perché siamo stato individuato mio malgrado come referente per il dipartimento di agricoltura sarà un po' più cinque minuti in più mi sono stati abbonati per fare un po' anche di sintesi di questa giornata di divulgazione sul futuro verde in Valle d'Aosta le piante credo che siamo stati interventi tutti molto interessanti il mio non sarà un intervento così scientifico come i precedenti ma ha una visione un po' più generale forse meno tecnica ma sulle politiche anche poi di gestione del territorio quindi ho trovato tutti gli interventi molto interessanti e spero di poter fare alla fine del mio intervento una sintesi che è degna di quanto è stato raccontato questa sera io vi parlerò del patrimonio abbiamo sentito gli ultimi due interventi sul patrimonio forestale invece il mio intervento è più sul patrimonio diciamo così parato pascolivo cioè quello che ci occupiamo un po' di più noi come struttura perché al centro delle politiche agricole in Valle d'Aosta c'è proprio se vogliamo la zootecnia anche gli altri settori ma in realtà la zootecnia in Valle d'Aosta è il fulcro se pensiamo che il 97% delle superfici agricole in Valle d'Aosta sono prati pascoli e vedremo che c'è anche una certa tendenza un po' concorrenziale prima si diceva delle foreste che aumentano invece questo patrimonio è un po' a rischio ed è quello che vorrei rimanesse principalmente del mio intervento si è detto tanto negli interventi precedenti delle caratteristiche del nostro del nostro paesaggio alpino è bene sapere che l'uomo ha modellato questo paesaggio alpino perché c'è una giusta combinazione tra un fondo valle che è il fondo valle urbanizzato dove ci sono alcune tipologie di culture e certamente ci sono anche anche i prati c'è una media montagna e poi c'è un'altra montagna e l'uomo ha saputo sfruttare sapientemente questa orografia questa altimetria questa clività e l'esposizione che caratterizzano questa regione che è unica per la sua conformazione noi siamo una regione totalmente montana anche secondo i dettami europei e quindi con tutti i problemi ma con tutte anche le opportunità che questa regione offre apparentemente è un paesaggio molto semplificato sostanzialmente verde abbiamo visto anche nelle nelle foto via via storicamente la Valle d'Aosta è tutta identificata come verde ma certo perché ci sono foreste e ci sono e ci sono prati sostanzialmente ma in realtà è una è un patrimonio di biodiversità ma perché perché noi abbiamo un'Andrea abbiamo un'Anvera abbiamo un'Equote e quindi tutte queste componenti abbiamo suoli diversi esposizioni diverse e quindi questo genera necessariamente una diversità e una biodiversità molto molto particolare molto ricca quindi bisogna fare attenzione a non banalizzare uso un po' questo termine diciamo così un paesaggio alpino dicendo sì vabbè ho visto boschi ho visto prati punto è finito ma in realtà dentro a questi boschi dentro a questi prati ci sono decine di essenze che rendono unica questa questa nostra questa nostra regione questa diversità è una diversità animale è una diversità vegetale è una diversità anche di paesaggio perché la montagna rispetto alla pianura conformandosi nel tempo crescendo nel tempo ha creato mille mille angoli questi angoli sono tutti molto diversi appunto per altimetria per esposizione e quindi sono tanti paesaggi questo mi sembra molto interessante e in questo paesaggio come dicevo prima l'uomo ha creato ha potuto diciamo così instaurarsi però non potendo impattare in maniera molto significativa perché la montagna comunque determina delle condizioni molto forti delle costrizioni molto forti abbiamo un ciclo vegetativo molto ristretto rispetto ad altre regioni quindi dobbiamo cogliere al meglio quell'opportunità produttiva ma questo ha fatto sì che in realtà si siano generati nel tempo dei modelli di utilizzo diciamo agricolo diciamo agrosilvo pastorale specifici della condizione alpina per cui ci troviamo di fronte a delle produzioni come diceva prima anche Mauro Bassignano delle rese molto contenute ma in realtà delle rese anche molto forti se vogliamo quindi queste condizioni così costrittive fanno sì che ci sia uno scosso utilizzo di risorse materiali poca biomassa quindi poca resa sostanzialmente ma una forte diversità che è una diversità determinata dal fatto dell'adattamento della resistenza e questo fa sì sempre Bassignano prima diceva forse è una caratteristica anche nostra di non mollare ci sono degli aspetti molto interessanti che sono stati detti prima anche culturali se vogliamo si diceva degli ultimi interventi mostravano un patrimonio forestale in aumento circa 100.000 ettari invece qui rischiamo di vedere un patrimonio verde prato pascolivo un po' a rischio in leggera riduzione tra un censimento dell'agricoltura e l'altro ci sono stati fino anche qualche decina di migliaia di ettari in meno e oggi questo patrimonio verde si assesta ad un terzo circa di quello forestale se vediamo 54.500 sono dati recenti che gestiamo noi come struttura essendo struttura responsabile delle politiche agricole di sviluppo rurale in Valle d'Aosta quindi sono dati che conosciamo abbastanza bene e qui grazie anche al collega Ruben Prejango abbiamo fatto un po' una stima di quelli che sono gli ettari anzi non proprio una stima abbiamo desunto i dati in nostro possesso e vediamo che la gran parte di questa superficie è quella in alta quota quindi sono sono i pascoli dal peggio e abbiamo una quota relativamente bassa invece della cosiddetta zona di Maillet zona di Maillet che in realtà è tradotto è quella zona dove tradizionalmente si utilizzava cioè probabilmente Maillet in deriva da Maggengo cioè dell'utilizzo primaverile quindi dell'erba disponibile a maggio prima di salire in montagna quindi le zone di stazionamento prima di salire in montagna e poi c'è una quota anche però considerevole di prati veri e propri di Fondovalle che in realtà si mescolano anche a delle superfici un po' meno qualitativamente produttive che vengono utilizzate comunque anche a Pascolo in Fondovalle e questa è un po' la stagione di vedere anche noi abbiamo la sede a San Cristof e vediamo in questi giorni il Pascolo di alcune mandri e quindi è il Pascolo autunnale e che si alterna col Pascolo primaverile prima della partenza in Alpeggio dicevo un patrimonio che subisce ha subito nel tempo un'evoluzione abbastanza importante infatti se la foresta aumenta il patrimonio verde si riduce c'è una sorta di competizione di spazio prima il collega adesso ho detto collega ma in realtà il professore diceva come le foreste occupano le radure ecco quelle radure per noi sono molto importanti e quindi certo loro sono piante grosse quindi la fanno un po' da padrone ci mettono molto più tempo ma poi se non gestite queste radure vengono occupate e un altro fenomeno è diciamo così l'aumento della superficie forestale l'espansione in quota anche questa è una competizione perché in quota abbiamo entro certi limiti di quota abbiamo quei Pascoli di cui dicevo prima quindi questa evoluzione noi stiamo un po' tenendo sott'occhio perché ci preoccupa un po' vediamo una riduzione delle superfici utilizzate che vuol dire che forse l'uomo incomincia a abbandonare certe zone più difficili no? forse incomincia a utilizzare delle superfici più comode perché l'agricoltore è sempre agricoltore è sempre si sveglia sempre molto presto l'allevatore si sveglia sempre molto presto al mattino ma anche lì le condizioni sociali incominciano a cambiare e forse certe zone che una volta venivano utilizzate al meglio via via vengono abbandonate quindi quelle più marginali rischiano di essere abbandonate c'è una modifica nell'utilizzo abbiamo visto e qui metto subito dopo l'influenza delle politiche agricole premiali dell'Unione Europea e anche regionali che ahimè hanno generato anche degli effetti di speculazione degli effetti distorcenti nell'utilizzo per cui si cerca di massimizzare il profitto attraverso queste politiche e questo fa sì che ci siano in corso dei fenomeni non tanto di sovrautilizzo ma di sottoutilizzo dei pascoli e questo non è una buona condizione di gestione del pascolo a lungo andare questo sottoutilizzo ne riduce la capacità produttiva la biodiversità c'è una specializzazione delle specie quindi è un po' rischioso e qui ahimè noi gestori delle politiche abbiamo una certa responsabilità è un territorio con delle specificità territoriali sia dovuto alle razze ai prototipici e questo sistema verticale della monticazione che è molto interessante che non va perduto perché in effetti è quella capacità dei bravi allevatori di cercare spostando via via le mandri verso la quota di utilizzare al meglio la capacità produttiva in fondo valle ci sono i prati che producono bene via via salendo la produttività si riduce e via via salendo la produttività dei pascola aumenta con la stagione quindi si arriva giusto in tempo per utilizzare al meglio questa produttività questa è sapienza questa è tradizione è tecnica tradizionale e oggi ancora c'è è stato detto anche prima come l'agricoltura in Valle d'Aosta tiene perché è ancora forte questa coscienza degli allevatori di cogliere al meglio di coniugare al meglio tradizione con con innovazione ma ne parleremo ancora dopo in fondo valle stazionano circa 29 unità e bovina adulta questo è il termine uba che viene utilizzato ma cosa osserviamo osserviamo che via via come dicevo prima gli animali che salgono in alpeggio si stanno via via riducendo e questo non è proprio un buon segnale e qui interessante il collega questa volta sì che è un collega Ivan Rollet prima parlava delle funzioni delle foreste se vedete le funzioni che ho elencato in questa slide nella prossima sono sostanzialmente le stesse da parte delle superfici prative c'è una certamente in questo caso la differenza è che i prati pascoli servono principalmente come base foraggiera per l'allevamento per i bestiame e qui c'è un aspetto che caratterizza fortemente il nostro allevamento cioè una caratterizzazione una tipicizzazione dei prodotti tipici quindi questo è un aspetto che le foreste non hanno ma per tutto il resto credo che si possa trovare cogliere delle similitudini e infatti anche i prati pascoli hanno una attività una funzione ecologico protettiva ma perché perché garantiscono con questi cotici molto molto fitti un accumulo di sostanza organica nel suolo la permanenza permette che il suolo non si alteri non si perda voi sapete che in Italia nel mondo c'è una fortissima perdita di suono per erosione a causa dell'acqua a causa del vento a causa dell'abbandono proprio delle colture quindi questa questi tappeti verdi permettono invece di proteggerlo c'è un accumulo dell'assumimento dell'anidride carbonica che è uno degli aspetti che negli ultimi periodi risuona fortemente come funzione molto importante e come contrasto al cambiamento climatico una fertilità chimica fisica biologica dico delle cose che si possono facilmente intuire se pensate a un suolo che è completamente coperto di appunto questi tappeti verdi che hanno delle radici tra l'altro essendo caratterizzate da biodiversità abbiamo alcune specie che hanno magari radici fittonanti quindi che vanno un po' più in basso nel suolo altri invece che rimangono più superficialmente quindi c'è un utilizzo diverso del suolo e della fertilità del suolo non dobbiamo preoccuparci meno male perché sono solo a metà quindi correre ancora di più ma ancora la permanenza dei codici cosa permette? stabilità dei versanti un po' come per le foreste determinazione dell'azione battente delle piogge una miniera di suolo abbiamo già detto una maggiore tratenuta di infiltrazione dell'acqua è come se fosse una spugna che trattiene quindi questo è importante per la salute del suolo per la sua fertilità un effetto antincendio una prevenzione del contenimento dei movimenti nevosi come ha detto il collega Rolle prima anche delle foreste e dei dissesti in genere ma anche una tutela del patrimonio faunistico e qui poi sarà interessante vedo Massimo Buocca direttore del parco del Montavic perché anche lì abbiamo cominciato a parlare di una potenziale concorrenza di competizione tra il bestiame e la fauna selvatica quindi dobbiamo insieme studiare dei piani di utilizzo che coniughino al meglio questi duplici fabbisogni e ancora una multifunzionalità ho parlato di un aspetto storico-culturale tradizione materiale immateriale savoir faire il paesaggio culturale alpino e forse un'attenzione un po' più moderna ad una fruibilità sostenibile quindi ad un turismo sostenibile ma anche sportiva e poi degli aspetti identitari che certamente caratterizzano la Valle d'Aosta rispetto ad altri settori dell'arco dell'arco alpino e infine ma non meno importanti questi forse la somma di tutto questo fa sì che questo patrimonio verde e qua parlo forse del patrimonio agrosilvo-pastorale quindi mettendo insieme questi 150.000 ettari certamente espressione di beni pubblici che forse non sono facilmente percepibili ma sarebbe bene invece pensarci noi diamo per scontato ad un patrimonio verde in Valle d'Aosta non dobbiamo darlo così per scontato perché come possiamo vedere è a rischio ma questo patrimonio ci dà un benessere prima si parlava delle passeggiate e questo benessere non è addirittura quantificabile ma sarebbe importante invece quantificarlo perché la sua perdita sarebbe veramente grave benessere tutela della collettività una qualità della vita legata anche alla qualità di alcune matrici fondamentali l'acqua l'aria il suolo un senso di appartenenza questi aspetti sono aspetti che fanno parte di noi magari non li valorizziamo abbastanza invece non fanno parte soltanto di noi che ci che residiamo ma i turisti vengono proprio a cercare interessante il fenomeno durante all'apertura del covid come ci sia stato un assalto no delle degli abitanti delle regioni vicine proprio in zone di montagna per ritrovare quasi una una riapertura respirare di nuovo no senza mascherine e mi fermo qua perché un patrimonio a rischio perché abbiamo visto da una parte c'è una riduzione del forse riduzione non è neanche il termine corretto anche se i dati dicono questo dicono in effetti di una riduzione del numero dei capi negli ultimi vent'anni ma uno potrebbe anche dire ma rotta duemila capi in vent'anni cioè capiamoci no potrebbe anche non essere questa no magari c'è una moria naturale no in effetti forse più che una riduzione c'è questo effetto distorto dell'utilizzo dei prati pascoli montani certamente abbiamo rilevato una riduzione del numero dei capi ma abbiamo anche rilevato una riduzione delle superfici utilizzate anzi forse un cattivo uso delle superfici e questo cattivo uso ahimè ancora una volta è dato dal fatto che certe politiche incentivanti provenienti dall'Unione Europea attraverso i livelli nazionali attraverso anche un nostro intervento certamente a livello regionale hanno fatto sì che ci sia stato un utilizzo un po' non secondo le buone pratiche ecco possiamo dire così di superfici soprattutto di superfici di pascolo in quota questo fa sì che si crei un un non equilibrato rapporto tra gli animali presenti e la superficie una volta si parlava di sovrautilizzo c'è troppi animali no? sulle superfici qua invece ci cerca il minimo per poter entrare per essere ammissibili a certi componenti di premio e questi effetti dove il denaro a volte crea dei fenomeni speculativi anche che però possiamo dare anche una buona notizia attraverso certamente la collaborazione tra i vari assessorati attraverso il corpo forestale attraverso certe indagini anche molto recenti che hanno messo in luce questi fenomeni speculativi stiamo dando dei segnali chiari per dire in vai d'osta non è questo il modo di fare no? e quindi stiamo cercando di arginare questi 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 processi che portano essendo cattivo utilizzo portano certamente ad un degrado e via via ad un abbandono perché la speculazione è un po' come gli avvoltori si viene si mangia si sparisce no? e tornare ad una gestione corretta non è così immediato l'agricoltura ha dei processi che non sono proprio accendi spegni ma sono un po' più lenti e le foreste sono ancora ancora più lente molto più lente però sono fenomeni anche culturali che vanno sanati e vanno curati certamente tutto questo non aiuta alla scarsa remunerazione dei prodotti tipici di montagna la fontina in primis che resta comunque il prodotto principe per una quarantina di milioni di euro l'anno è questo il un po' il tiraggio però è un po' sotto l'occhio di tutti il fatto che forse un prodotto così potrebbe essere valorizzato di più perché faccio questo discorso che c'entra magari meno con il discorso del patrimonio prodotto pascolivo valdostano ma perché se noi fossimo in grado di valorizzare di più il prodotto principe valdostano forse ci sarebbe un minor ricorso un ricorso meno spasmodico ai premi dell'Unione Europea cioè ci sarebbe un equilibrio più sano forse cioè non cercheremmo negli incentivi europei la principale fonte di reddito che invece va cercata nella remunerazione proprio del prodotto e tu ne sai qualcosa perché tuo padre ha studiato e ha scritto tanto sulla fontina il rischio è anche quello di un abbandono dei modelli tradizionali perché dico questo perché se le superfici d'alta quota vengono in qualche modo predate da aziende soprattutto di fuori valle soprattutto piemontesi e lombarde allora i valdostani devono cercare altri modelli cioè c'è una concentrazione sul fondo valle questo rischia di da un punto di vista ambientale una concentrazione dei capi in fondo valle e un abbandono verso l'alto ripeto non voglio solo dare cattive notizie sono fenomeni che stiamo osservando onestamente li propongo vi dico anche che siamo pronti con delle contromisure che sono già attivate e altre che stanno guardando alla prossima programmazione quindi speriamo di poter mettere in piedi delle buone politiche ecco in fondo i fenomeni speculativi come vi dicevo prima e che ho detto già più volte cosa fare? certamente gli interventi precedenti hanno messo in luce come la conoscenza del territorio è fondamentale si è parlato anche di ecologia storica questo certamente vale anche per noi cioè conoscere il territorio è il primo aspetto ed è fondamentale per fare questo noi in collaborazione con l'ARPA con il sito agricole e grazie anche ad alcuni progetti che il sito agricole ha avviato in certe zone soprattutto del parco nazionale Gran Paradiso stiamo mettendo a punto alcuni modelli come si diceva prima alcuni modelli di corretto utilizzo delle superfici ci sono dei modelli anche molto tecnologici per esempio l'uso dei dati satellitari che però non ci stanno aiutando non sono così precise nel restituire la reale capacità produttiva e soprattutto funziona molto bene in certe zone ma in altre siamo in fase di studio dobbiamo capire se sono i modelli giusti certamente in questo caso l'esperienza l'osservazione da terra l'esperienza anche proprio degli agricoltori è quella che certamente restituisce il dato più corretto e ineffabile quindi questa è una conoscenza che vogliamo certamente valorizzare dobbiamo incentivare progetti mirati a valorizzazione delle risorse pascolive pubbliche che un po' come per le foreste c'è un buon equilibrio tra pascoli di proprietà comunale e pascoli di proprietà di proprietà privata però è importante che anche gli enti locali conoscono bene il loro patrimonio e ne diano la disponibilità secondo dei criteri qualitativi più che dei criteri solo basati sul massimo rialzo quando si fanno i bandi per concedere l'uso degli alpeggi pubblici bisogna andare tutti verso una gestione più qualitativa e poi questo l'ho scritto ma l'ho scritto più come memorandum per me come memo per me studiare delle politiche che sappiano delle politiche integrate di sostegno e quando dico integrate che mettano insieme tutti i vari pezzi dell'agricoltura che è un settore molto forse uno dei settori più complicati in assoluto non a caso l'agricoltura da sola vale il 35% di bilancio europeo resta la politica più importante a livello europeo e piccola parentesi è la politica di un settore che nasce produttivo ma al quale sempre più l'unione europea dà una funzione ecologica ambientale le condizionalità per entrare nel sistema di aiuti sono condizionalità ambientali e questo al settore agricolo non è che piaccia tantissimo perché vorrebbe produrre certe categorie vorrebbero che la politica agricola fosse agricola sostegno all'agricoltura invece l'unione europea veste il settore agricolo di una funzione fortemente ambientale fortemente ecologica quindi anche questo può essere un messaggio che rassicura un po' se non lo facciamo noi sarà l'unione europea richiamarci su questo politica integrata di sostegno al reddito agli investimenti e alle scelte imprenditoriali non solo premi compensativi cioè non soltanto una compensazione al reddito che è dovuto perché in Valle d'Aosta produrre un chilo di latte costa più che venderlo quindi è giusto cioè è giusto compensare il lavoro di gente che lavora fino a 18-20 ore al giorno che guadagna dal proprio prodotto meno di quello che spende in agricoltura non esistono i bilanci ma se andassimo a vedere quanto costa il lavoro in agricoltura bisognerebbe compensarlo ampiamente e poi un riconoscimento di un ruolo dell'allevatore ben più ampio rispetto a quello particolarmente agricolo produttivo perché c'è un presidio c'è una custodia c'è l'osservazione dei mutamenti del territorio che è un aspetto molto interessante anche questo è un aspetto di servizio pubblico cioè la presenza dell'allevatore dell'agricoltore sul territorio ha una valenza non è soltanto non è soltanto che sta lì a pascolare uso questo termine con tutta l'attenzione ma in realtà è un osservatore privilegiato osserva se un torrente segue sempre lo stesso decorso se c'è una frana come cresce il bosco come osserva animali la fama selvatica se passa un lupo se non passa insomma è un monitoraggio umano se volete a costo zero e forse queste funzioni sarebbe bene remunerarle incentivare forme tradizioni di allevamento estensive che perseguono l'equilibrio ottimale fra carico animale superficie pascoliva questi termini sono un po' un po' tecnici ma spero di avere reso l'idea di cosa intendo coniugare tradizioni e modernità perché ci sono nuove esigenze i nostri elevatori non sono gli elevatori di 50 anni fa di 60 anni fa ci sono esigenze nuove c'è un sociale che è molto importante l'aspetto della famiglia di coniugare anche un tempo per sé quindi noi stiamo osservando questi fenomeni quindi l'agricoltura non può essere fregnante la vita dell'agricoltore e certamente questo si può perseguire anche con la giusta tecnologia per ammontarla la giusta digitalizzazione l'avvento di forme innovative che permettano anche a chi sta in montagna quattro mesi l'anno tre mesi quattro mesi l'anno di avere quelle quelle forme di banamento di comunicazione che spesso mancano perché in zone marginali magari non arrivano non arriva internet non arrivano gli strumenti per cui questi sono aspetti che certamente dobbiamo tenere conto valorizzare come dicevo prima la tipicità delle produzioni e incentivare una una dimensione altra nuova che metta che possa coniugare l'agricoltura con il turismo con un turismo sostenibile con percorsi sportivi come dicevamo prima che permettano anche di valorizzare in loco il prodotto che forse sarebbe interessante forme di accoglienza di somministrazione e vendita dei prodotti insomma piccole forme che in qualche modo facciano passare anche un po' più il tempo quando incontri qualcuno puoi raccontare la tua storia poi crei intanto una relazione e soprattutto puoi puoi valorizzare la tua la tua produzione lascio qui e poi faccio proprio un minuto di sintesi mi sembra mi sembrava buona questa bella questa questa frase di Fausto Gusmeroli o Gusmeroli forse Gusmeroli di più direi Gusmeroli avevo detto buona prima perché ti dice come in realtà un'azotecnica alpina avrà un futuro solo se sarà riappropriarsi di modelli identitari dove quegli aspetti tradizionali che consolidavano un armonioso rapporto con il territorio incroci e si coniugano con la modernità secondo me questa è una buona sintesi di tutto quello che avrei voluto raccontarvi spero in maniera chiara approfitto per cogliere alcuni aspetti di tutti gli interventi molto interessanti che ci sono stati questa sera si è parlato di banca del germoplasma di tutela biodiversità vegetale si è parlato di agrobiodiversità credo che i prati pascoli siano un chiaro esempio di conservazione in situ di questa biodiversità ripeto il verde non è tutto uguale basta vedere i nostri prati ci accorgiamo come sia biodiversa questa situazione dei prati di pascoli si è parlato dei cereali si è parlato dell'importanza della gestione dell'uomo dell'agricoltore dell'allevatore si è parlato di inclusione sociale che sono aspetti che sono molto importanti di una cura delle piante e di come attraverso la cura della piante si arriva alla cura dell'uomo quindi questi sono credo degli spunti molto interessanti da ritenere conservazione del patrimonio quindi quando si è parlato di foreste abbiamo visto evoluzioni diverse un'espansione della foresta una tendenza alla riduzione invece del patrimonio prato pascolivo quindi lì rilevo come sia importante l'equilibrio fra i due fra questi due se vogliamo ecosistemi quello forestale certamente più naturale l'agro ecosistema allevamento è più seminaturale però certamente in armonia con l'ecosistema e in tutto questo rilevo l'importanza della gestione corretta dell'uomo ecco a me è caro un principio lasciare andare le cose così torna alla naturalità torna all'aspetto naturale è un principio valido ma con dei limiti l'uomo ha una funzione molto importante di gestione una foresta abbandonata un prato pascolo abbandonato diventa incolto l'incolto non è espressione necessaria di biodiversità anzi la tendenza è la specializzazione verso certe specie quindi farei attenzione a dire naturalità è sempre un concetto buono credo che la corretta gestione sia più un concetto buono noi abbiamo dei boschi da climat diciamo non sono foreste pluviali no certo certo abbiamo visto anche come la non gestione delle fitopatie degli incendi delle abbiamo visto alcune foto anche di come si dice sì esatto e anche di frane eccetera così l'uomo deve intervenire deve tutelare molto interessante l'aspetto dell'ecologia storica dei modelli nuovi e integrati perché il rischio è sempre passato questo di politiche agricole molto settoriali c'è viticoltura c'è frutticoltura l'allevamento invece le politiche devono essere integrate fra di loro collaborazioni fra gli enti cito in questo caso l'importante collaborazione che abbiamo per esempio con il Montavic anche per studiare modelli di misure agroambientali che siano in coerenza e in equilibrio con l'esistente e in strasintesi quello che mi vorrebbe da dire è l'importanza di pratiche tradizionali con tecniche innovazioni moderne che permettano anche alla famiglia dell'allevatore all'allevatore e alla sua famiglia di poter vivere in maniera adeguata adeguata anche ai tempi e quindi sostanzialmente un equilibrio che forse va più che riscoperto va insomma va mantenuto va curato va tutelato io avrei finito qui bene grazie grazie Alessandro Rota non solo per il suo bell'intervento interessante ma anche per averci aiutato a mettere in piedi a organizzare questo evento direi che il suo apporto è stato molto importante se non determinante grazie a tutti i relatori intanto perché si sono attenuti ai tempi alle regole strette che avevamo dato spero di non avervi proprio spaventati però devo dire che così siamo riusciti a rimanere nei tempi grazie anche a voi che ci avete seguiti ci sono delle domande allora considero prima dico ancora questo considerato che noi adesso siamo in diretta su zoom quindi c'è chi ci vede da casa e considerato che nei giorni prossimi questo evento verrà caricato in streaming nel nostro sito e quindi anche lì visibile è necessario che tutti parlino al microfono anche chi fa la domanda per ragioni di covid non possiamo far girare i microfoni tra di voi allora chiederei chi vuole mi deve tagliare una mano no dicevo chi vuole fare un intervento dovrebbe alzarsi e andare nei corridoi dove vi viene dato però ormai gliel'ha dato lo tenga no buonasera lo porto a casa ciao solo una cosa brevissima io sono Federica Pozzi sono un dottore forestale e parlo in rappresentanza del mio ordine dottori agronomi e dottori forestali e devo dire è stato molto interessante questo pomeriggio ma io penso che la nostra categoria sia necessariamente debba entrare in tutti questi discorsi che abbiamo sentito oggi perché siamo come dire dei professionisti che hanno le competenze specifiche infatti lavoriamo tutti noi con moltissimi dei relatori che abbiamo sentito oggi pomeriggio vorrei come dire sottolineare quella che è la nostra preparazione accademica e poi la nostra formazione continua la nostra vicinanza a questi temi perché rientriamo anche noi come dire nel sistema di gestione delle foreste i prati bascoli consulenze agricole studi sui boschi direzione lavori eccetera siamo come dire io credo degli attori importanti e voglio ricordare il nostro ruolo ecco tra l'altro ecco quello che ho notato durante questo questa giornata diciamo questa questa serata è che le notizie che a noi arrivano dall'agricoltura sono quelli che arrivano dal telegiornale in cui ci sono sempre meno addetti sempre meno gente che si occupa di agricoltura ci sono sempre i premi da aspettare un po' in negativo mentre questa sera mi ha fatto molto piacere scoprire che ci sono non solo un sacco di esperienze positive ma anche tante ricerche ma ci sono anche tante tante attività di venire in positivo e propositive e addirittura ci hanno anche in certi casi abbiamo anche capito di essere in una di trovarci in una valle d'Aosta che per certi versi è molto particolare e ha degli aspetti molto particolari positivi favorevoli diciamo che ci distinguono favorevolmente rispetto a tante altre regioni agricole che apparentemente sono più favorite perché hanno perché hanno le pianure perché hanno le marcite perché hanno tante altre cose però sono molto soddisfatta diciamo dei risultati di questa serata prego il professor Garbarino nel suo intervento ha accennato un fenomeno che subito mi ha incuriosito poi ragionandoci mi pare di intuire cosa si pensa che succeda però magari me lo può spiegare meglio e ha detto che ci si aspetta che con il cambiamento climatico ci sia una riduzione della superficie occupata dalle conifere perché non è quello che guardando così non è quello che sembra l'intuizione che si ha attualmente che le conifere in particolare l'arice sale di quota questo si osserva facilmente in vent'anni ho visto dei pascoli d'alta quota occupati prima erano pascoli adesso sono stati occupati dall'arice non mi sembra visivamente così intuitivamente non sembra di vedere invece le lattifoglie salire e occupare lo spazio precedentemente occupato dalle conifere assolutamente assolutamente d'accordo la mia ultima slide anzi la mia penultima slide diceva proprio questo gli scenari di cambiamento climatico applicati a dei modelli statistici degli species distribution models per gli addetti e i lavori fondamentalmente ci fanno vedere che è una questione di scala diciamo a breve scala temporale cioè guardando domani assolutamente vero nel senso pinocembro e l'arice per parlare delle alpi si stanno espandendo e si espanderanno i modelli che si occupano appunto di distribuzione delle specie un po' perché lavorano a delle scale temporali più grossolane e anche a delle scale spaziali più grossolane nel senso che si appoggiano quasi esclusivamente su dei dati climatici quindi su delle su dei pixel su delle aree di un chilometro quindi ogni ogni dato è organizzato in chilometri chilometri quadrati fondamentalmente tutti dicono che l'arice abete rosso abete bianco quasi tutte le conifere forse c'è il pino silvestre che tenderà semplicemente a spostarsi di quota andranno a perdere terreno ora questi modelli sono come tutti i modelli quasi tutti sbagliati ma quasi tutti utili nel senso sono tutte delle estreme semplificazioni della realtà perché prendono in considerazione solo alcuni aspetti in questo caso qui ci si basa sulla distribuzione attuale delle specie quindi su tutti gli impatti sia di tipo topografico climatico e antropico per desumere le esigenze ecologiche quindi le temperature e le umidità di tutte le specie e questo viene proiettato esclusivamente nel futuro fino a 100 150 anni basandosi esclusivamente su dati climatici ad esempio non considerando che tra 100 150 anni a 4000 metri non sarà possibile che per una questione topografica nel senso che non ci aspettiamo che in tempi così brevi il bosco possa arrivare a quelle quote quindi questo per dire cosa che sì ci sono due due cose contrastanti questi questi scenari climatici applicati alla distribuzione delle specie ci dicono che sicuramente le conifere andranno a perdere terreno mentre i modelli di cambiamento dell'uso del suolo ci dicono fondamentalmente perché entrambi si basano sull'osservazione del passato ci dicono che i boschi continueranno ad espandersi adesso diciamo e lo si vede anche al parco del Montavic questa espansione forestale molto forte nel periodo diciamo che intercorre tra gli anni 60 70 e 90 poi questa espansione ha una sorta di diflessione perché perché i pascoli diciamo le radure più di bassa quota si chiudono quindi gli spazi a disposizione non ci sono più e l'espansione tutta avviene tutta ad alta quota o comunque principalmente ad alta quota la risposta alla sto facendo un giro incredibile però nel senso la mia ultima slide che dice integriamo è un è una domanda e cioè perché certi tipi di modelli ci dicono che le conifere si ridurranno come importanza e invece osserviamo un'espansione perché l'espansione è dovuta all'abbandono da parte dell'uomo perché dove ci sono i pascoli oggi una volta c'erano i boschi e questo segnale è molto forte ancora oggi era ancora più forte qualche anno fa quando è iniziato l'abbandono andandosi ad esaurire questa questa sorta di effetto dell'abbandono avremo soprattutto l'effetto del clima e questo effetto del clima andrà a sfavorire quelle specie più microterme che fondamentalmente stanno bene al fresco e favoriranno invece quelle che stanno più volentieri al caldo infatti il grosso di questi modelli che si basano su proiezioni climatiche vengono fatti a scala molto ampia cioè tutta l'Europa o tutto il mondo perché per capire se mi va via l'arice che va o il faggio che si sposta dal sud Europa al centro Europa al nord Europa chi arriva devo avere nella mia analisi ed è questa sicuramente un'autocritica del lavoro che abbiamo fatto noi devo avere un'analisi che comprenda un'area ampia perché quello che si vede fondamentalmente è che andranno ad espandersi le querce termofile cioè le querce che stanno al caldo non so se ho risposto forse troppo qualcun altro allora io avevo una domanda che volevo rivolgere forse più a il libro rota e volevo chiedere se cosa ne pensava nel fatto se da un punto di vista della remunerazione e del marketing quindi diciamo poi anche dal punto di vista tecnico della fattibilità e dal punto di vista di politiche di sostegno incentivi della possibilità di orientare l'agricoltura valdostana come agricoltura di nicchia diciamo e di montagna verso il biologico cosa ne pensa dell'aspetto di questo aspetto ci fosse il mio collega suggerirebbe lo svenimento di fingere lo svenimento di fronte a questo tema qua e uscirne così orizzontalmente inziché verticalmente no il biologico in valdosta è un tema è un tema delicato cosa ne penso io personalmente cosa pensa l'amministrazione cosa pensa l'amministrazione certo dunque è un tema delicato perché noi siamo di fronte a una sorta di paradosso quando parliamo di biologico è un'agricoltura di per sé biologica stasera io ho parlato di allevamento in allevamento non si fa uso di fertilizzanti di fitofarmaci è come dicevo prima è un settore agricolo che potremmo chiamare agroecosistema è molto in diciamo così in in sintonia con col territorio settori invece più specializzati viticoltura fruticoltura piante officinali orticoltura certamente ne fanno un uso però in Valle d'Aosta è molto diffusa per esempio l'agricoltura integrata e alcuni soprattutto nell'orticoltura sono chiaramente orientati verso il biologico abbiamo parlato di agricoltura biodinamica e quindi insomma è proprio una nicchia della nicchia perché dico che è un tema delicato perché in questo caso la burocrazia frena l'etichetta biologico cioè noi siamo di fronte fortunatamente ad una sostanziale agricoltura biologica ma che non marchiamo perché soprattutto per quanto riguarda un settore molto complesso come quello dell'allevamento freggiarsi del biologico è una morte dell'umano ok quindi piuttosto che portare a casa un prodotto che io possa freggiare come biologico faccio un convenzionale o faccio un qualche cosa che ho fatto che mio padre fino a ieri ha fatto mio non ha fatto così eccetera così che di biologico è nella sostanza ma che non posso marchare come forma anche perché in realtà l'esperienza per esempio del caseificio o valdaias ha dimostrato che la remunerazione del marchio biologico se va bene era di un euro un euro e mezzo che non diciamo così non dava il giusto credito allo sforzo che in realtà c'è dietro perché l'allevamento in particolare è un settore molto molto complesso dove dai mangimi agli animali ai prati tutto deve essere marchiato biologico a te come tratti il latte dove lo porti c'è tutta la filiera che è una filiera posso assicurare credo la più complessa in assoluta in assoluto è biologico noi abbiamo lo dico perché è un dato è un dato reale abbiamo avuto l'abbandono di una quarantina di aziende che partecipavano al biologico perché o valdaias ha deciso di non fare più la linea biologica dall'anno scorso proprio per questo motivo e cito un caso un'azienda che aveva in un angolo del fienile un sacco di mangime per la bassa corte si è vista a più pare una multa di 6.000 euro perché quel sacco non doveva essere lì dentro ha avuto la sfortuna di prendere di essere sotto controllo non sono servite a nulla le giustificazioni di quell'unico sacco che serviva per ma che non doveva essere lì perché era un prodotto convenzionale e non marchiato biologico di fronte a queste a questi eccessi della burocrazia e del controllo io posso dire esasperato in una regione come la nostra dove al mattino hai subito il controllo il pomeriggio lo soggia tutto il paese ma non ma non per darti conto ma per solidarietà in massa hanno deciso di uscire quindi i numeri dicono oggi di una cinquantina di aziende biologico che è un numero bassissimo perché sono circa 1900 le aziende agricole in Valle d'Osta quindi siamo non fanno niente di coda siamo rispetto ai numeri italiani dove invece in tutte le regioni il biologico esplode allora cosa le dico qua è un pensiero mio che porto come amministrazione ma è più mio me lo conceda al venerdì sera ecco così forse sarebbe più interessante più che marchiare biologico identificare il prodotto di montagna un prodotto valdostano come tipicità regionale che non necessariamente che non diciamo forzatamente con un'etichetta con un eco label che chiamerei così perché tra l'altro il simbolino biologico non so se voi come consumatori vi siete accorti ma in altre regioni è esploso cioè nel giro di pochi anni tutte le aziende sono diventate biologiche peccato che l'Italia abbia delle procedure di infrazione guidate dalla Commissione Europea dall'Unione Europea su aspetti come direttiva nitrati per esempio cioè l'uso esagerato di fertilizzanti soprattutto in regioni di pianura e altre regioni io non mi capacito di un'esplosione di aziende biologiche in tutte le altre regioni forse lì i costi anche di 6.000 euro di una multa sono niente rispetto a una gestione aziendale invece in valdosa 6.000 euro sono determinanti questo insieme ad una burocrazia che vede un controllo all'anno più controlli all'anno su diverse componenti dell'azienda l'allevamento una volta il mangime un'altra volta le banche dati un'altra ancora eccetera che rendono la vita insopportabile l'orientamento invece chiudo se non sono troppo lungo invece su quello sì cioè sull'andare a premiare attraverso politiche che speriamo di costruire in maniera intelligente integrata chi fa un'agricoltura sostenibile nella sostanza prescindendo un attimo dalle certificazioni dei label ecco questo è un po' il nostro indirizzo per questo che noi collaboriamo con i siti agricoli con gli antiparco eccetera così in valdosa il tentativo sarebbe interessante se dalla noi abbiamo circa 300.000 particelle agricole in valdosa che vuol dire una polverizzazione assurda ognuno di noi adesso non so ma stimo è possibile che ognuno di noi abbia ereditato un bosco un pascolo quindi vuol dire che ci sono migliaia di proprietari e aziende che devono mettere insieme i pezzi cosa voglio dire che forse una politica ambientale efficace è cercare di andare a chiedere agli agricoltori di farla in maniera collettiva quindi stiamo puntando verso modelli agroambientali dove non è il singolo che fa una certa cosa perché basta fare un esempio se io ho un frutteto in mezzo ad altri frutteti e decido di fare il biodinamico il biologico e tutte queste forme di diciamo così di agricoltura ad impatto zero ma il mio vicino fa un'agricoltura convenzionale risulto io molto più inquinante di lui perché per deriva il suo prodotto arriva anche nel mio solo che io vengo sanzionato e poi sui giornali si legge che il biologico non funziona perché hanno trovato residui di allora capite che di fronte a queste situazioni che sono quasi paradossali in via d'aosta punterei di più verso politiche diciamo così più intelligenti integrate che non necessariamente forzatamente a etichettare biologico un prodotto forse più tipico questo sì forse basterebbe dire che è di montagna in questo altre regioni dell'arco alpino ci hanno mangiato in testa quando ancora l'Unione Europea diceva che non si poteva scrivere yogurt della valtellina questi lo scrivevano lo stesso non abbiamo mai potuto caratterizzare certi prodotti perché osservanti delle direttive europee certe regioni sono arrivate molti anni questa è un po' la mia risposta un misto tra quello che vorrebbe essere rota ok allora io direi ancora ultima ultima domanda poi poi dobbiamo andare mi chiamo Magri sono dottore forestale e volevo chiedere fare una domanda ad Alessandro che oltre a un collega un amico che dice no ma io insisto dal punto di vista di quello che è la gestione forestale diciamo questo per quanto mi riguarda nella mia idea personale le politiche forestali attualmente in Valle d'Aosta sono molto scarse se noi ci raffrontiamo a quello che è la regione Piemonte penso che il professore mi può dare ragione siamo praticamente siamo rimasti al palo ormai sono 10 anni più o meno 10-15 anni che non si fa più nulla ma neanche i piani di assestamento che sono la base per capire qual è la nostra risorsa abbiamo visto che l'ultimo inventario è del 2011 in 10 anni il bosco è esploso e la situazione adesso è veramente differente abbiamo perso anche tutta quella che è una serie di dati inventariali con i vecchi piani economici io volevo sapere se c'è la volontà dal punto di vista politico della programmazione del prossimo PSR di essere un po' più presenti dal punto di vista da questo punto di vista cioè se le politiche forestali potranno avere in futuro un peso un po' più importante di quello che hanno adesso silenzio iniziale per farti capire che allora intanto vorrei precisare che io non do un contributo politico cioè mi occupo delle politiche agricole ma il mio sono interventi tecnici sono un tecnico come sai benissimo la tua domanda mi lascia un po' così perché in realtà io mi occupo del programma che dentro cui c'è anche la possibilità di misure forestali come sai molto bene ma non sono direttamente io responsabile di quelle misure lì se la tua domanda è se c'è la volontà da parte mia io ti rispondo sì e come perché lo sviluppo rurale in Valle d'Aosta passa attraverso agricoltura foreste e tutto quello che è villaggi attività rurale in senso del più ampio più ampio possibile non so come risponderti gli strumenti ci sono io auspico che chi ha la responsabilità di gestire quelle 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 misure faccia di tutto per 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 renderle diciamo così fruibili ai potenziali beneficiari sia privati che che pubblici in vista della nuova programmazione certamente non possono mancare però non mi sbilancio oltre perché non sono io direttamente responsabile di quelle misure lì non vorrei uscire dalla tua domanda dicendo non sono io quindi non ti rispondo però in questo settore guardo anche Valerio che invece è funzionario che conosce molto meglio di me questa 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 situazione devo dire che le misure forestali non hanno avuto una buona una buona adesione non è un rimprovero al settore forse non so Valerio se vuoi rispondere a fronte di un servizio finanziario abbastanza notevole dicevo a fronte di una comunque di una disponibilità finanziaria abbastanza elevata perché all'inizio della programmazione avevamo 2 milioni e 900 mila euro che non sono stati sfruttati come ci si aspettava per mille motivi non so se adesso no adesso direi ci metteremo mezz'ora per svilupparli tutti quanti non siamo per mille motivi ma effettivamente non c'è stata l'adesione che ci si aspettava sulle misure forestali i fondi c'erano c'era anche abbiamo fatto anche un bando sui piani economici i piani di assestamento ma è andato deserto bisognerà bisognerà riflettere questo anche quello anche la non non presentazione delle domande è un risultato se vogliamo nel senso che ci farà riflettere e capire cosa non andava e cosa bisognerà cambiare e fare per la prossima programmazione in modo da riprendere questa fase cioè quella dell'assestamento che è la prima e assolutamente necessaria per la corretta gestione dei boschi benissimo grazie grazie a tutti prima di uscire vi do appuntamento al prossimo incontro che avrà luogo 5 novembre qui in biblioteca in quell'occasione avremo un architetto dello studio Boeri di Milano che ci parlerà delle forestazioni urbane delle città future che dovranno svilupparsi secondo loro all'ombra degli alberi di Milano di Milano che avrà luogo di Milano di Milano di Milano di Milano di Milano di Milano